Mr. Rip, ho fatto due video reazioni su YouTube su Mr. Rip, entrambe riguardavano l'intelligenza artificiale. Una volta ha pure risposto, è sempre in modo educato, l'altra volta non mi ha cagato proprio. Secondo me, per due motivi, Mr. Rip non mi caga, anche se a me piacerebbe fare una collab con lui. Non mi caga, uno, perché dal punto di vista mediatico sono molto più piccolo, quindi neanche ci perde tempo, secondo me. E due, perché nel momento in cui entro in gioco io e parlo di intelligenza artificiale, lo surclasso male. Cioè, il motivo per cui a me tanti di questi qui più visibili nella tecnica non mi chiamano è che ci sto troppo dentro all'intelligenza artificiale e quindi non hanno poi il respiro per dire cazzate, perché ne so troppo di più e poi soprattutto magari tendo ad entrare nel tecnico e quindi qua la gente non si diverte. Però mi piaceva una collab con Mr. Rip, è una persona che stima, è molto preparato, mi piace tanto quando si mette lì a dare consigli finanziari. Fategli arrivato TikTok, ciao mister! Ciao! Savastano mi è provocato, Savastano mi temagno, adesso. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Stasera live, live con Piero Savastano. Adesso lo facciamo entrare, sta qui che aspetta. Eccolo qua, ciao Piero! Ciao, ben trovato! Ciao, ciao, ciao a tutti. Allora, abbiamo con noi Piero Savastano, l'autore di questo TikTok provocatorio, provocante. Modesto soprattutto. Modesto soprattutto, però ha funzionato, ha funzionato. In realtà anche io volevo già contattarti perché ho tante cose, tanti problemi e quindi alla fine ho sempre posticipato. Ho anche sempre posticipato un po' il cercare di mettermi un po' in paro con tutto il mondo dei large language models che quando ho finito, quando ho appeso il backtracking al palo, al chiodo, non andavano molto di moda. Per cui ho detto, ok, è il momento di farci amicizia con questi strumenti. Comunque, Piero, ci puoi dire tu chi sei, cosa fai? Raccontaci un po' di tua storia. Nasco come ricercatore in... Da nascita. Nasco proprio direttamente come ricercatore, poi ben presto mollo per dedicarmi alla libera professione e all'intelligenza artificiale applicata, commerciale. Poi ho fatto il consulente per un bel po' di anni e adesso, diciamo, mi sto un po' allontanando dal mondo della consulenza e ho lanciato un progetto open source di cui spero di essere a cavo per un lungo periodo e portarlo in giro per il mondo. Bello, bello. Ora ne parliamo anche di questo. Qui tu di formazione sei? Hai un PhD o qualcosa? Il PhD l'ho mollato proprio miseramente, sono accartocciato su me stesso mentre facevo il PhD. A Roma? Stavo al CNR. Ah, il CNR, ho quasi paura di chiederti... L'istituto di robotica. Conosco, ho un caro amico che sta al CNR, magari lo conosci sicuramente, si chiama Andrea O. Eh, il nome l'ho sentito, però non credo di averci parlato. Ok. Ok, ma ok. Sì, sì, sono cresciuto, diciamo, in mezzo a questi qui che facevano reti neurali dai tempi del cucco, dagli anni 80, 90, quelli che sono cresciuti con Hinton, perché in Italia ce l'abbiamo, i bei fenomeni, però, diciamo, la ricerca di base in quel contesto non ha... Ho preferito fare un po' uccell di bosco, andare un po' in giro. Poi, la cosa assurda che è successa in questi ultimi anni è che poi l'eccellenza in intelligenza artificiale, per motivi di scala, si è spostata sempre di più nelle big tech. E purtroppo la ricerca è rimasta un pochino indietro, sono successe tante cose strane. E prima di questo ho studiato i topi, il cervello dei topi e le simulazioni del cervello dei topi. Facevo psicologia. Ok. Ah, ok. Vieni dal mondo, vieni da psicologia? Sì, sì, c'è una parte della psicologia che si dedica completamente a modelli matematici del tessuto nervoso, quindi vengo da là. Quindi la formazione, anche se vogliamo, matematica e da software engineer è nata in parallelo per conto tuo, non hai la formazione pura da software engineer? Software engineer, oddio, qualcosa facevamo, però immagino erano queste interfacoltà in cui magari ti fai, che ne so, l'esame di psicologia della memoria e magari poi a lato ti fanno fare, che ne so, la simulazione dell'ippocampo. Ok. La romanità stasera abbonda. Sì, sì, ogni tanto metteremo qualche commento, per cui, se trovi qualche, se vedi in chat qualche commento interessante, ovviamente senti libero di prendere e rispondere, ma ogni tanto li facciamo passare un po' come i, noi siamo entrambi quarantenni se non sbaglio, no, qui come ai vecchi tempi, qualche trasmissione trash in cui passava sotto, quando non erano bestemmi e passavano gli sms. Chiamalo 144. Oh, che memoria, che memoria, che memoria, gli 144. Ok, perfetto, quindi vieni da formazione, diciamo, psicologia, aspetti più neurologici, quindi, appassionato di cervello, di topi, e quindi hai detto a questo punto simuliamo l'intelligenza, andiamo a capire come è fatto un cervello, andiamo a scriverlo un cervello. Sì, no, ho visto bei trip in vita mia, considera che i miei studi, diciamo, di tesi erano su vita artificiale, non so se l'hai mai sentito nominare. Vita artificiale è una nicchia delle nicchie, non basta in quel settore simulare l'intelligenza, si vuole simulare la vita, e quindi ci sono delle stringhe genetiche, cioè delle stringhe che simulano il DNA. Sulla base di queste stringhe vengono costruite degli agenti simulati che hanno un cervello, e questo piccolo cervello simulato dipende dalla stringa genetica, e poi gli agenti che muovendosi nell'ambiente sopravvivono di più, riescono ad adattarsi meglio. Anche l'ambiente è simulato? Sì, pure l'ambiente è simulato, sì, sono delle cose assurde, mi ricordo che lasciavamo acceso i cluster lì al CNR per tre settimane di seguito per vedere che succedeva. Mi ricordo una notizia tipo di 15 anni fa, abbiamo simulato un ragno, un ragno ormai l'abbiamo simulato benissimo e possiamo farlo evolvere, cose del genere. Sì, sì, anche quel tema lì è interessantissimo, ossia quanto devi simulare per raggiungere determinati fenomeni, cioè per dirne una, i neuroni attualmente che trovi nelle reti neurali, hai visto quanto sono scemi, eppure adesso Hinton, che ha da poco lasciato Google, va in giro a dire, secondo me la back propagation è più efficiente dell'apprendimento umano. Ok, wow. Sì, sì. Ok, ci arriveremo, sei d'accordo, sei contro? La back propagation è più efficiente? Se dice Hinton c'ha ragione. Hinton diciamo lo prendo abbastanza come oro colato, però diciamo per non soffrire di questa sudditanza con i confronti del padre del deep learning, penso che se dice così è perché ha visto, c'è uno che non si è mai sbilanciato veramente, sono 40 anni che è il migliore praticamente, non si è mai sbilanciato, mai, mai e poi mai, adesso di punto in bianca vuole parlare di etica, dell'intelligenza artificiale, dice che le cose stanno succedendo troppo velocemente. Ok, questo ne parleremo sicuramente, sono temi che ho toccato una live un paio di giorni fa e sono curioso di chiederti cosa ne pensi, però volevo prima passare dal lato tecnico, poi magari lei eretico ce lo mettiamo dopo se vuoi. Quindi tu, vediamo un po' l'introduzione su di te, tu hai detto che hai lavorato al CNR, però poi a un certo punto hai mollato e ti sei messo in proprio, quindi oggi tu sei un freelance? Sì, sì, sono un martire della partita IVA, tra l'altro ho scoperto che ho un sacco di difficoltà, io mi trovo molto più a mio agio a parlare di cose di tecnica scientifica, se devo parlare di me stesso mi sento nudo come un pulcino. Ok, non voglio insistere, giusto per capire al volo cosa fai, tu hai dei clienti e fai consulenza in ambito AI? Sì, sì. Per capire come è la tua day to day life, scrivi codice? Ultimamente scrivo un po' meno codice, più che altro mi capita dal livello europeo più o meno di organizzare e guidare dei piccoli team verso la costruzione di progetti fino a che non sono autonomi e poi da bravo consulente sparisco. Ok, figo, quindi avrai avuto modo di mettere mani su tanti progetti, avrai visto più realtà. Una cosa che vorrei chiederti in ambito intelligenza artificiale, se no te la formazione migliore qual è? Cosa fa oggi se un 18enne ha paura di ciaccipti che gli rubare il lavoro, ma vuole lavorarci, vuole dire ok, voglio farmi amico il mio futuro nemico. Qual è il percorso più efficiente secondo te, il percorso migliore? Per chi, diciamo, viene da fuori, che ha fatto altro nella vita, io credo che l'astrazione, le astrazioni tecnologiche che si stanno creando su questi strumenti sono talmente veloci e talmente ampie che non c'è bisogno troppo di capire che cosa c'è sotto, se non dal punto di vista strumentale, come si fanno i prompt, per esempio. Oh, quindi tu, ok, quindi non... interessante. Invece è più tecnico. Sì, sì, scusami. No, dicevo, non è un po' di prioritario andare a capire cosa c'è sotto, o studiare come si fa, come si modella una rete, come si fa il training, cosa... Per i non-stem secondo me non vale più la pena, l'anno scorso la pensavo diversamente, mentre invece per individui che hanno più questo orientamento scientifico e tecnico, oppure che sono appassionati, perché poi c'è anche l'aspetto piacere personale. Lì diventa interessante, sì, capire un po' come funzionano le architetture, la tecnica anche sta diventando molto più astratta di come era prima, cioè le librerie che ci sono adesso praticamente... Mi spiego meglio, laddove prima imparavi framework per costruire reti norali, no? PyTorch, TensorFlow, adesso in realtà impari dei framework che utilizzano quei framework internamente, che sono specializzati in un'area dell'intelligenza artificiale, ad esempio computer vision, oppure natural language processing, oppure modelli multimodali, oppure cose che hanno a che fare con l'audio, cioè si è allargata talmente tanto e tanto velocemente che abbiamo superato tre strati di tecnologia nel giro di pochissimi anni, e tanto per dirne una, ecco, ho uno che programma, no? E gli piace il chat GPT, ci sono queste librerie tipo Langchain in particolare, mi sento di nominare, Langchain, catena di linguaggio, e queste qui sono librerie che ti permettono di mescolare codice a language model, perché il language model può scegliere, diciamo, fai una parte del tuo script, è scritta a ma... esatto, sì, sì, una... Queste librerie qua che stanno uscendo, praticamente sono un mescolone mai visto, totalmente nuovo, di language model che fanno parte del lavoro e codice scritto da te che ne fa un'altra parte, e giocano tra di loro, si passano segnali? Faccio difficoltà, la mia testa da macchina di von Neumann fa un po' difficoltà a capire, cioè quindi tu cosa fai qua dentro? Tu scrivi codice, scrivi un prompt, che cosa... Se vuoi usare questa libreria cosa fai? Allora, immagina che dici, voglio scrivere un prompt per creare, appunto, un assistente che risponde alle Frequency Ask Questions sul sito, sul tuo sito, per aiutare le persone a capire chi sei, cosa fai, quali sono i tuoi interessi, e poi vuoi anche che però una persona ti possa mandare un'email tramite questo bot, oppure che possa, non so, mandarti un qualche cudo, oppure comprare un libro, e quindi vuoi conversare alla chat GPT, ma vuoi anche che questo bot sia un applicativo. Ma stai parlando al me sviluppatore o all'utente del mio sito, ad esempio? A te sviluppatore che vuoi costruire questa cosa, sì, per l'utente del tuo sito. Allora, tu ti trovi nella situazione di costruire una versione, immagina, di chat GPT o altri language model, perché adesso prolifera, no? Ce ne saranno parecchi nei prossimi tempi. Però un po' vuoi conversare, vuoi lasciarlo libero, un po' però lo vuoi controllare. Il che vuoi, se lo vuoi controllare, lì appunto può tornare il tuo approccio alla von Neumann, che io trovo tuttora sano, perché far fare tutto al language model è da malati, credo. Anche perché, continua, continua, scusa. Al language model fai fare parte della cosa, e supporti il language model del codice scritto da te. Questi libri sono un tentativo di far intrecciare la programmazione classica con le capacità dei language model. Ok, però faccio qualche provocazione. Mi sembra una roba del tipo che ti possono insegnare un corso di sei mesi se prima eri un pizzettaro e vuoi riciclarti, no? Sto parlando da software engineer, no? Era bello questo commento di Simone Ferrero, che dice interessante, o migliore, quasi un po' più, almeno ho saputo di cercare di capire almeno qualcosa. Esatto, volevo rivedermi a questo commento qua. Cioè, mi sembra un po' high level, nel senso, io vorrei arrivare a capire come può fare uno per contribuire a questi large language model. C'è qualcuno che li sviluppa, c'è qualcuno che ci lavora, c'è qualcuno che va proprio alla base e dice, ok, io da zero voglio prendere, entrare e capire come funzionano queste cose. Poi dopo passiamo al layer di utilizzo, una cosa che non serve essere un software engineer magari per fare quelle cose. C'è una grossa letteratura sui language model e quello che personalmente, quello a cui ho assistito è un'impennata che va dai 2012-2013 fino ad adesso, in cui piano piano è diventato sempre più difficile per giocatori piccoli, inclusi i laboratori di ricerca, fare queste cose e piano piano, appunto, i thinker, i tecnici quelli spinti, i ricercatori, si sono trovati completamente surclassati da iniziative private e al momento particolarmente chiusi a livello di cancelli. Questo perché? Perché il language model che noi usiamo adesso, non so, un GPT-3, un chat GPT, non è troppo diverso da BERT di Google del 2016-2017, anzi, l'innovazione scientifica è stata proprio portata da loro. La differenza essenziale è la scala. Per questo poi, me ne rendo conto adesso, io ti sto subito proponendo costruisce on top. Però perché ti dico costruiamo on top? Perché sinceramente io ero di quelli che facciano le reti in casa, sono cresciuto io a 19 anni e ho cominciato a fare sta roba, c'è stata una transizione dal 2018-19 fino ad adesso in cui... Dai, i paper sui Transformers. Il paper te lo leggi, però in casa non fai niente, forse un po' di computer vision ancora puoi fare in casa. Però è diventato far girare oggetti di quel tipo. Quindi dici che oggi un giovane dice voglio studiare machine learning, se qualche anno fa c'era ancora qualcuno che studiava un po' come mettere il suo modello, come fare e scegliere i parametri di training, feature, bla bla bla, e poi si poteva costruirla per la neural network, allenarla e validarla from scratch. Oggi è una cosa rara, oggi è una cosa che non fai, la fanno dentro Google, è enorme, e la fanno in OpenAI, è enorme. E infatti i ragazzi li vogliono andare a finire perché è lì che si fa la ricerca quella più spinta, essendo una ricerca comunque basata su forza bruta. Ma te ne dico un'altra che a me ha scioccato. Nel mondo scientifico, no? Ci sono i benchmark riguardo ai modelli. Cioè ci sono dei benchmark che qui dici, ok abbiamo costituito un modello, lo testiamo con dei benchmark condivisi e così diciamo alla comunità scientifica a che punto siamo arrivati. Ok. Si cominciano a vedere paper scientifici in cui i ricercatori non ti dicono abbiamo creato questa architettura neurale, l'abbiamo addestrata così e poi abbiamo esibito questi benchmark, bensì abbiamo preso GPT-3, lo abbiamo tunato e poi abbiamo fatto i benchmark. Ok. Che ricerca è? Eh ma se ti vedi, adesso qualcuno mi denuncia però, se tu ti vai a leggere GPT-4, no? Di OpenAI, il paper di GPT-4 non è un paper scientifico, è un white paper marchettaro, cioè loro ti dicono espressamente se te lo vai a vedere, noi qui non diciamo nulla di come questa rete è costruita e come l'abbiamo addestrata, però guardate che cosa fa. E quindi lo scisma è netto. Molte, molte, molte belle domande in chat, adesso le mostro, volevo fare due cose io. Una è, da una parte questa cosa qui matcha con la mia esperienza, perché io comunque, per una piccola parentesi, cioè io mi sono laureato nel 2003 con tesi su intelligenza artificiale robotica, in realtà facevo SLAM, simultaneous localization and mapping, con tecniche di integrazione bayesiana, quindi era un momento in cui il machine learning, diciamo le neural networks erano un po' a morte. Da lì a breve è tornato col deep learning un po' tutto e nel 2020, da settembre 2020 fino a dicembre 2021, quindi poco prima che poi uscisse tutto il mondo dei large language model, diciamo in maniera pubblica, ho lavorato, diciamo collaborato, ho collaborato con un istituto accademico, con Sepp Ochreiter, magari lo conoscerai, è uno dei padri fondatori dell'LLVM, però in realtà ho fatto infrastruttura di cloud, non sono mai riuscito a entrare proprio davvero nella ricerca e il meme a quell'epoca era, le grandi aziende fanno la vera ricerca, cioè hanno i dati, gli istituti accademici o l'accademia ha i ricercatori e può quindi scerare la conoscenza, però quelli hanno i dati, noi abbiamo la gente e stiamo indietro, questo era, quindi un po' mi conferma quello che dici tu, però c'è un documento liccato da Google, qualche giorno fa, non so quanto sia effettivamente liccato, ho voluto finto o riccato, in cui praticamente un report interno a Google dice che guarda che né noi né OpenAI abbiamo tutto questo vantaggio, quelli che ce l'hanno è il mondo open source, che hanno detto una volta che l'AMA è stato reso pubblico, in due settimane l'hanno portato quasi a raggiungere livello di bard o chart cpt, invece per cui abbiamo veramente poco vantaggio, quindi potremmo aver potuto vederlo, saperlo, cosa abbiamo perso, e comunque il data quality is better than data size, e mi ha lasciato un po' stunnato, nel senso che cavolo, quindi credevo questi internamente dicono che addirittura il mondo open source va più veloce, e addirittura dicono che è un po' la rinascita del praticone, nel senso che ad oggi molte idee interessanti vengono dall'individuo singolo, neanche dal ricercatore, neanche dal gruppo di ricerca, quindi questo mi va un po' in contrasto a quello che dici tu, a quello che era la mia credenza, hai opinioni a riguardo, o non so. Io attirerò la fitta sessaiola dell'ingiuria dicendo che, premesso anzi che sono un grande fautore del mondo open source, open science, open data, ci sto dedicando la vita, ma non esiste un modello open di linguaggio che sia minimamente all'altezza di quelli commerciali, non esiste, adesso tireranno fuori Alpaca, Lama e anche i flan di Google sono notevoli, anche se meno conosciuti, secondo me Google è tra le più generose, ma chat GPT è una bestia. È più forte. Sì, no, ma anche perché fino a che ci devi chiacchierare del più e del meno è bene, ma prova a creare dei prompt in cui ci sono pezzi di memoria, tool che possono essere utilizzati, dove il language model deve fare delle scelte. Appena vai a sfiorare la semantica muoiono male tutti, e ti dirò di più. se lo sforzo collettivo di costruire questi language model, io spero e vorrei partecipare anche, dovesse arrivare a creare modelli che sono di quella capacità, ci vuole l'hardware poi per farli girare. E non è hardware consumer. Chiaro, eh sì, quello è ovviamente un grosso limite. Esempio nerd, non so, fermami se entro troppo nel tecnico. No, no, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Ti fermo, se non capisco quello che dici, ti chiedo maggiori spiegazioni. Tu prendi modelli, che ne so, come alpaca, no? 13 miliardi di parametri, ok? E quindi comincia a essere un decimo di GPT-3, non sarà mai all'altezza, però magari qualcosa si vede. Anche perché pare che il chat GPT sia più piccolo di GPT-3. Ma comunque, prendi un alpaca di questo qua, per farlo girare su una GPU di fascia alta consumer, devi prendere alpaca, lo devi quantizzare, vuol dire che devi prendere le connessioni e le devi ridurre da float, di modo che siano rappresentabili da interi, per ridurlo di dimensione e farlo stare in RAM. Il che vuol dire prendere una cosa che già è inferiore come modello, degradarlo ancora di più per farlo girare sull'hardware, e chiaramente, cioè, sono ancora purtroppo, lo dico col cuore aperto, sono ancora purtroppo dei giocattoli, ma tra qualche mese, qualche anno, secondo me, si troveranno anche dei modi, vedi il progetto Bloom francese? Ci trovano dei modi per fare dei network di persone che collaborativamente fanno girare il language model, secondo me quella è una strada ancora poco battuta, ma che potrebbe essere... Che significa network collaborativi, cioè io ho il mio modello, tu hai il tuo, siamo piccolini, siamo player piccoli, e lo facciamo girare assieme. Esatto, io ci metto la GPU. In che modo? Ah, per fare un training condiviso, fare un pool, dobbiamo fare un po' come i mining pool, adesso avremo i training pool. Eh, per esempio, sì sì, ma anche sull'inferenza, cioè... Strano che non è nato un concetto, beh sì, si chiama AWS, è nato un concetto di training, diciamo di resource pool, si chiama cloud. Una cosa del genere, sì, come nel mondo delle crypto pure, poi l'altra possibilità che vedi è che si faranno una competizione tale, le big tech che i prezzi scenderanno talmente tanto, però lì rimane il punto che comunque mandiamo continuamente dati ai cloud delle big tech, e quindi, cioè, magari non c'è niente di male, però se ti interessa avere i tuoi dati sulle tue macchine, nella tua organizzazione, c'è da aspettare. Cioè l'home premise, quei language model, non esiste. Eh, c'ho una premise parecchio grossa, c'ho un data center. Immagino che è un po' complicato. Sto vedendo un po' di domande. Poi tu, diciamo, se ho capito bene, hai degli studi scientifici, no? Io credo che i grossi... Le grosse misconception che ci sono al momento sono legate agli esponenti. Cioè, abbiamo difficoltà, il grande pubblico ha difficoltà a capire che dal modello che ti scarichi su Agimface, no, tipo GPT2, AGPT3, non è che è più uno, è per dieci? È per cento? Cioè, l'impennata che c'è stata a livello di dati... Numero di parametri. Sì, sì, numero di parametri, dati utilizzati, risorse di calcolo. Questi qui sono andamenti che sono stati assolutamente esponenziali, per cui le persone fanno fatica ad accettare che, ma come, due anni fa lo facevo in casa e adesso non posso neanche con una rete di dieci GPU. Anche Sam Altman dice che stanno un po' raggiungendo il limite dal punto di vista di crescita in questa direzione, tu pensi che... Domande un po' da telegiornale. Pensi che siamo a un punto di crescita esponenziale intermedio in cui fra un po' sarà ridicolo parlare di questi modelli perché saremo infinite volte più precisi oppure stiamo comunque raggiungendo un po' una saturazione e magari sarà difficile fare grandissimi progressi oltre a questo nel breve e medio periodo. Nel breve e medio periodo, secondo me, vediamo la costruzione on top. Cioè, quella roba tipo Langchain che ti facevo vedere oppure i plug-in per ChatGPT. Cioè, secondo me, i language model si configurano non tanto come intelligenza artificiale fatta e finita ma come piattaforma. Ok. E per questo... Però la potenza di questa piattaforma cioè, arriverà ad essere... Possiamo dire il ChatGPT è un po' una sorta di tutorial, no? Cioè, guarda, c'è un language model sottostante. Questo è il tutorial per farti vedere come funziona. Tu facci quello che vuoi con il language model sottostante. Ma arriveremo ad avere language model molto, molto, molto più potenti ridicolamente più potenti oppure stiamo più o meno arrivati, siamo arrivati, insomma. Allora... Se hai un'opinione, è complicato anche avercela. Mi sento rispondo nel modo letterario, diciamo, quello che ho visto nei paper. C'è stato un botte risposta tra i ricercatori di DeepMind quindi acquisiti da Google e i ricercatori di OpenAI sulle famose scaling laws, le leggi di scala dove la domanda era quanta intelligenza possiamo ottenere all'aumentare dei dati e dei parametri e del risultato di calcolo e loro hanno trovato conversioni diverse comunque un andamento che è di tipo logaritmico della performance cioè nel senso per avere un aumento lineare di intelligenza devi usare esponenzialmente più risorse Ok Quindi se tutto il mondo si coalizzasse e creasse tutto l'hardware che abbiamo nel mondo si unisse e decidessimo di fermarlo per un anno avremmo forse aumentato di 30 punti di IQ al momento L'erroba del genere, sì, perché ci sono gli esponenti di mezzo cioè per portarli magari da, non so, da 100 miliardi di parametri ha 100 triliardi di parametri che comincia a essere, cioè negli ordini di grandezza dei cervelli dei grandi mammiferi, degli esseri umani, dei primati 100 miliardi mi pare sono il numero di neurone è 100 miliardi ma le connessioni sono nei triliardi Ma sì, ok sono curioso di farti domande un po' più neurologiche però salto di palo in frasca, scusa, vai 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 Cioè sicuramente vedremo delle cose assurde però al momento, ed è il motivo per cui loro veramente fanno queste ricerche sulle leggi di scala non hanno, come si dice, bang for their bucks cioè non gli conviene scalarli ancora perché comincia a costare troppo quindi Altman dice no, no, ma noi abbiamo raggiunto il plateau perché ormai non a caso hanno aggiunto i plug-in perché? Perché hanno accettato che queste qui sono piattaforme e le persone ci costruiscono on top Ok, però è un po' triste cioè come dire, è un po' triste quindi niente singularity da saffanculo stiamo a un livello figo abbiamo degli assistenti possiamo costruire assistenti fighissimi adesso vediamo un po' anche quello che hai fatto tu però più di tanto non, come dire, niente non ci spaccano ancora tu hai detto che abbiamo oggi se vogliamo paragonarlo a un cervello di qualche entità biologicamente vivente oggi un GPT-4 a livello di numero di neuroni sta pari a un gatto, un topo cioè nel senso piccoli mammiferi sono raggiunti piccoli mammiferi diciamo che per arrivare a livello di numero di parametri cioè numero di connessioni umane manca qualche zero quindi succederà però adesso non conviene agli attori principali del mercato al momento non conviene perché si sono già affossati di debiti per farlo usare gratis a milioni di persone chiaro, chiaro e magari quando arriveremo a quei livelli di grandezza là Hinton si è spaventato forse perché magari vede questo momento prima di quanto lo vediamo noi altri non lo so però secondo me è diventata molto commerciale soprattutto anche qui chiedo scusa se prendo argomenti che magari non vuoi trattare nel caso fermami no, no, come no ci mancherebbe però l'intelligenza artificiale è diventata una questione politica sono curioso, cosa intendi? intendo dire che questi strumenti sono forieri di ulteriori impoverimenti nelle fasce di popolazione che non hanno accesso che non sanno come sfruttarli si prestano ad automatizzare tantissime attività umane e secondo me accentrano potere appunto nelle big tech più di quanto è successo finora ok provo a fare subito la foto del diavolo si prego provo e poi sono curioso perché mi viene da pensare che intanto i tipi di lavori che vanno ad automatizzare non sono quelli delle parti più povere del mondo al momento no e anche internet nasceva come una roba soltanto degli americani dei militari però poi alla fine ha democratizzato facciamo finta che lo abbia fatto quindi magari necessariamente agli albori di una tecnologia sono i più ricchi che la usano però magari poi un domani diventerà una roba che renderà anche i poveri ricchi è una bella prospettiva cioè secondo me potresti assolutamente avere ragione non solo ma mi viene in mente in favore della tua ipotesi che per tanto tempo in AI ci si aspettava che i primi lavori ad essere automatizzati sarebbero stati quelli ripetitivi a bassa responsabilità invece i language model vanno proprio a toccare i white collar i lavori d'ufficio di informazione quindi questo è da considerare è vero vediamo vediamo che succede aspetti politici tu pensi che cioè fra un po' molti lavori verranno mandati a casa io so me il lavoro cambierà totalmente può essere che se fosse una strategia imparata sarebbe investire gli stati ma io so delle ipotesi secondo Federico so delle ipotesi che che stiamo in qualcosa in cui da qualche anno il mondo diciamo statale governativo o militare anche lagga un po' il mondo civile quindi la vedo difficile penso che non so guarda siamo arrivati al punto che devono andare a chiedere a Elon Musk di fargli i razzi per cui non lo so faccio difficoltà a pensare che è l'Italia adesso ok decide di investire hanno spesso 60 triliardi per fare welcome to come era lì open to meraviglia questi sono capaci di fare qualcosa di buono nel mondo machine learning ti chiedevo se secondo te che fine c'è pericolo per le condizioni lavorative ci sono lavori che spariranno o da quello che ho visto io c'è un po' di convergenza verso il multitask verranno automati ma task i lavori anche i lavori diciamo knowledge work sono composti da multitask e quindi la visione ottimistica è figo se io mediamente faccio 100 task e 30 me li fa un robot è un po' come quando altre automazioni mi hanno semplificato alcuni pezzi della vita però c'è chi è spaventato si guarda concordo pienamente avrei detto la stessa cosa cioè se ci concentriamo sui task piuttosto che sui mestieri la prospettiva è molto più sana perché come fai ad automatizzare un medico un avvocato ma anche ruoli di minore responsabilità sicuramente però li puoi aiutare come supporto decisionale come supporto alla ricerca di informazioni rilevanti l'automazione è legata ai task e non al mestiere assolutamente sì questo perché secondo me sai perché succede perché noi antropomorfizziamo l'intelligenza artificiale pensiamo che sia una persona e quindi diciamo la persona fa il mestiere non fa il task e invece quella continua a essere un cacciavite il language model continua a essere un cacciavite continua a essere uno strumento sembra essere la visione più diffusa tra chi è un po' addetto ai lavori non so come dire sono moderatamente come dice il mio la mia belief in questo momento è molto spinta verso il ok ma ancora ho qualche paura più interiore che oggi un 18enne si sente spiazzato perché sai qualunque lavoro vuol fare da qui a non dico a 5 ma da qui a 20 anni verrà fatto da un robot per cui mi chiedo ho tre figlie piccole che gli faccio studiare e niente vediamo c'è qualche bel contributo che abbiamo la prima cosa che mi ha in mente scusami l'empatia le relazioni cioè l'umanità è però adesso adesso l'umanità magari tra qualche anno vale molto di più che conoscere il teorema di della memoria però lo sai che lo sai che buona parte degli sviluppi che sto vedendo e quelli che più mi preoccupano sono quelli dello sviluppare un tuo assistente virtuale con cui poi prima o poi ci interagisci lo personalizzi assume un tono una voce chatbot anche erotici oppure ti fa il fidanzato AI hair il film hair o robe del genere quindi l'empatia è una roba che rimarrà nostra fino a che livello rimarrà umana oppure le macchine vengono a prendersi pure quella che in teoria è quasi più facile che sostituire non lo so un medico come hai detto tu perché a livello empatico puramente testuale puramente interattivo in qualche forma credo che già ad oggi chat GPT se lo con un paio di iterazioni ti può tranquillamente consolare poi innamorartene fra un po' non lo so ah come il film sì sì ho visto una roba del genere spaventa un po' io pensavo che la salvezza dell'umanità era nella creatività dico quando avremo le AI che fa tutto quanto noi scriveremo poesie in realtà le poesie ti scrive già le AI meglio di noi ma da parecchio tempo abbiamo un medico qua Gen90 sono medico ricercatore in ambito imaging oncologico e studio con tecniche di machine learning e di planning si può aggiungere velocemente diagnosi e predizioni caratteristiche umanamente non valutabili l'ambito è interessantissimo in ambito medico bisogna ancora capire come gestire le responsabilità legali di usare questi strumenti è ovvio c'è tutta una tecnologia data molto più avanti dell'etica e degli aspetti regali e così via poi tra l'altro le leggi in particolare ragazzi cioè quello che sta succedendo adesso con i language model adesso al di là del garante della privacy no che dalla spallata dove ne hai ma quello che sta succedendo con i language model secondo me tra 5-6 anni lo capiremo a livello legale hai qualche opinione qualche cosa che qualche paradosso qualche situazione hai visto del tipo e questo come verrebbe gestito legalmente eh sì perché prende tu puoi far fare cose molto spinte ai language model se tu infili le informazioni rilevanti nel prompt quindi senza addestrarli senza cambiare pesi questa è la novità che è stata introdotta da GPT3 in poi si chiama zero shot learning cioè imparare senza cambiare le connessioni della serie che i modelli di linguaggio dal 2020 in poi perché sono completamente diversi e dal punto di vista emergente sono delle bombe nucleari perché se tu nel prompt nell'input testuale gli fai degli esempi che lui deve di quello che deve fare lui riesce a risolvere il problema senza che gli vengano cambiati i pesi chiaro perché fa solo prediction quindi usa esatto proprio esclusivamente in inferenza quindi solo predizione lui riesce a fare cose che non stanno scritte a nessuna parte ma tu gliele hai spiegate come si fa e lui lo capisce e lo fa senza che venga tunato senza che vengano modificati i parametri vuol dire che c'è un cervello non plastico capisce talmente tanto il linguaggio e tra l'altro lo capisce cercando di prevedere il token successivo ma c'è roba da farsi faccio difficoltà a chiamarlo capisce non mi sembra un capire mi sembra un gli passo un input più complesso e tira fuori in maniera deterministica e istantanea un output diverso però comunque resta resta che lo stesso input produce lo stesso output no? eh sì se dice esatto tu gli dai questo input se nell'input gli dai l'istruzione di quello che devi fare senza modificare il modello questo qui se vogliamo si adatta alla richiesta se vogliamo usare una terminologia forse che è un po' più neutra un po' più scientifica e anche quella io ho detto capisce e ho antropomorfizzato cioè diventa assurdo e praticamente che succede che siccome hanno capito adesso un po' tutti i practitioner che se tu metti le informazioni rilevanti nel prompt quello fa cose straordinarie la gente sta cominciando a infilare dentro i prompt di tutto e quello che sta cominciando a infilare dentro i prompt sono informazioni personali informazioni riservate email roba che dovrebbe stare dentro porte chiuse e questo testo viaggia direttamente verso i server di OpenAI viene passato nel modello viene prodotta la risposta e la risposta torna da te però viene loggato il prompt per cui diciamo che le informazioni se le conservano volentieri anche di là no? sì poi chiaramente sarà un bordello anche questo qui cioè l'aspetto diciamo di privacy dei dati no? sì ma è già troppo dati per questo poi divento un po' un vecchio predicatore noioso però io vado avanti da anni dicendo facciamoci i nostri language model a livello europeo a livello nazionale quello che vi pare network di imprese così almeno i dati facciamo qualcosa perché capito il garante della privacy che dà questa spallata OpenAI gliela dà sul sito perché lì si possono agganciare ma in questo periodo in cui il garante della privacy aveva chiuso fatto diciamo aveva costretto OpenAI a chiudere il sito in realtà i servizi web di OpenAI andavano tranquillamente cioè lo stregatto che utilizza pure questi servizi si andava tranquillamente le persone che hanno costruito applicativi on top di GPT3 chat GPT funzionava tutto da dio hanno fermato proprio il sito non hanno fermato chat GPT e nel frattempo la gente manda 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 e è un po' quello che è successo anche con Google e anche con con i motori di cerca e con i social no? non c'è nulla di male perché alla fine questi qui sono enti commerciali vogliono fare i soldi non è che sono satana però se ci pensi quanto ci siamo tolti a livello di ricchezza e abbiamo perso in termini di privacy e di sicurezza a fare tutte le ricerche su motori di ricerca americano a usare come sistema operativo il sistema operativo americano a usare come social i social americani tutto il mondo tutta la roba cinese i Huawei e queste cose qua quelli sono stati beccati veramente a avere anche backdoor e cose del genere come se gli americani queste cose ce l'avessero no sicuramente ok chiaro l'Europa è inesistente dal punto di vista tecnologico da sempre essenzialmente che peccato concordo sì in effetti dici che quindi il fatto che magari i large language model usano storano i tuoi dati li potrebbero anche usare cambia poco che comunque tanto tu su drive o su dropbox o su whatever i cloud ci metti comunque tutti i tuoi dati lo stesso per cui ormai siamo là ormai siamo io una cosa mi chiedevo questi non lo so voglio fare un po' di previsioni future ad oggi essenzialmente internet quello che si può quello che si può screpare di internet si screpa per cui diciamo che ad oggi i language model hanno il vantaggio di potersi di poter essere trainati tirando giù internet e dandoglielo in pasto non vedi un futuro in cui la gente diventa più consapevole del fatto che i dati anche ciò che viene prodotto anche le varie le varie piattaforme non consentano oppure tu possa non consentire che i tuoi dati vengono usati per training cioè ti lo farei un language model e perfetto tutti i dati possibili immaginabili li uso per training no aspetta se vuoi i miei dati sono in vendita a 5 euro al mese i miei li compri dalla gente li compri da un broker che li aggrega magari un domani sarà il dato già lo è ciò che ha valore so che per l'utente non c'è questa percezione quindi li diamo via gratis un domani magari non lo so i dati potrebbero essere nostri se vogliamo li affittiamo ai vari language model o cose del genere te lo ricordi Tim Berners-Lee? sì il web 3 vero il web 3 cioè esprimeva proprio questa visione che adesso tu diciamo sfioravi perché lui diceva noi non dobbiamo avere applicativi e dati insieme da qualche parte dove c'è il server che registra tutti i dati ma i dati dovrebbero essere conservati in dei pod personali che sono un po' come un conto bancario ma invece di metterci dentro i soldi ci metti i tuoi dati e dai permessi agli applicativi di utilizzare i tuoi dati visualizzarli farli andare in giro e eventualmente ti pagano oppure ti danno dei vantaggi quindi ok è vero sono completamente lo standard dei link data cioè ormai c'è si chiama prima semantic web poi adesso l'hanno adesso ormai dieci anni fa l'hanno riprendizzato ma sta roba c'è da vent'anni ma noi aspettiamo cosa per lo sai che poi tra tecnici scusami no dico oggi il web 3 è diventato un'altra cosa che però alcuni tratti ancora li prende i dati sono tuoi c'è il tuo wallet con i tuoi dati e le tue cose no se vogliamo si infatti è ancora più figo perché l'uso della criptografia che si fa nel web 3 propriamente detto delle cripto è spaziale cioè Tim Bernersley quella cosa non se l'era immaginata però ecco si cioè noi abbiamo un sacco di tecnologia poi sembriamo due vecchi ubriaconi no al bar a borbottare però raga io lo dico ai ragazzi che ci seguono noi abbiamo visto delle cose che risolverebbero una quantità di problemi e distribuirebbero la ricchezza in un modo molto più sano ma prima che avvengano questi cambiamenti ci vuole ci vogliono delle non voglio dire parolacce diciamo ci vogliono delle delle lezioni dure leggi leggi casi casi eclatanti c'era uno un contributor del mondo open data che andava in giro per conferenze mi dispiace ma non ricordo proprio come si chiama però questo qui che mi pare che poi lavorava in mozilla faceva vedere aveva lasciato sua figlia a usare il computer e andare sui suoi siti insomma a guardare i video liberamente una mezz'oretta e aveva messo uno sniffer a mappare tutti i cookie che venivano installati nel browser e tutto quello che succedeva a livello e poi a te aveva misurato che la navigazione di sua figlia era arrivata a 50 60 server diversi mamma mia ok beh c'è sì per tracking e cose varie non so che conosci il mondo di The Bullshit Web che era un po' uno spin off ci sono degli articoli su come non so aumenta la banda passante aumentano diciamo la potenza delle connessioni ma aumenta il noise to signal radio di qualunque sito cioè tu vai su un sito vai su una ricetta vai su un sito che fa ricette e per avere quei 200 byte di informazione testuale ti porti dietro megabyte tra tracking pubblicità scripting come se non ci fossero domani quindi diciamo la densità delle informazioni che prendi su tutta la merda che c'è on top e poi anche con li parlava anche la questione di bloating di dati nel senso che tu hai un'ora carica una pagina o hai bisogno di connessioni ultra potenti per trasmettere essenzialmente piccola frazione di quello che per te è interessante il resto è monnezza che ti fa nel migliore dei podi soltanto occupa la banda nella peggiore ti va proprio su tracking e altre cose e quello boh Google aveva provato a fare il suo standard AMP non so quello l'hanno criticato a me non dispiaceva francamente ma vabbè era un modo per ottimizzare si era carino si per essere super lightweight sono molte cose che sono possibili io vorrei fare una domanda a te posso? come no certo ci mancherebbe si la sto impostando ho già tante cose che mi interessa chiederti e poi però si è una chiacchierata io diciamo seguendo un po' dei due contenuti io l'ho già sentito questo ragionamento quest'ottica che hai di guardare alla relazione tra segnale il rumore che secondo me dà una prospettiva anche originale su alcune cose e io ti chiedo questo in quanto content creator quindi sei uno che produce parecchio il fatto di uno essere immerso in tutto questo noise cercando di dare segnale in che condizione ti mette e due che è la cosa che mi interessa ancora di più adesso che escono questi generatori AI generativa mamma mia che produce contenuti aumenta ancora di più rumore e in alcuni casi poi questo rumore finisce per andare più virale dei contenuti disegnati scritti improvvisati già è così eh cioè le mie clip più famose è gente che ha preso dei canali mai indesettati su TikTok estratto un pezzettino 30 secondi con la musica sottofondo e già facciamo un milione di views o un puttanate così che se vogliamo sono comunque rumore cioè non è segnale 30 secondi in cui dico una frase stravolata e finisce virale succede però dal punto di vista mi hai chiesto come mi pongo dal punto di vista che farai noise to signal dalla parte beh ti ringrazio che mi dici che cerco di produrre segnale mi rendo conto che anch'io stesso produco molto rumore il rapporto signal to noise interno ai miei contenuti trovo che sia ancora troppo basso per i miei gusti però se mi guardo poi attorno c'è molto noise per cui vengo anche riconosciuto come uno wow porti contenuti interessanti io per la mia stessa barra di soddisfazione dico se volessi essere più efficiente dovrei non fare live e ricaricare video in cui magari in un'ora dico cose che potrei dire in 10 minuti ma studiare dei video scriptarli prepararli e farli da 10 minuti essere più condensato essere più efficiente quindi io di mio un po' sento che non sto neanche dando il meglio di me poi c'è anche l'incentivo a fare pure noise c'è l'incentivo di varia natura se faccio una live in cui faccio tre scorreggie con le ascelle fa un miliardo di views se mi metto a fare analisi 1 tipo istituto Nettuno alle 3 di notte non so se ti ricordi queste cose qua la vedo in 2 quindi l'incentivo economico è a fare troiate e a fare entertainment io un po' resisto un po' mi diverto anche a fare il cazzone ogni tanto per cui già di mio ho tante battaglie interiori il futuro come sarà? sarà un casino sarà un casino vedo però due direzioni opposte ma entrambi una preoccupante una piacevole la gente è meno capace ad essere attenta per cui vediamo la proliferazione di contenuti corti e spesso anche vuoti però c'è anche una forte nicchia dell'esistenza di contenuti lunghi e profondi guarda i podcast più famosi quelli di non so di rogan lex friedman lex è fantastico ha fatto quello con karmak da 5 ore ho visto tipo 2 ore e mezza su 5 però questo fa ben sperare fa pensare che comunque la merda è tanta ma è facilmente riconoscibile al momento mi preoccupa quando avremo i deep fake quando avremo qualcosa di non so non so hai visto che esiste il Joe Rogan AI experience quindi in teoria c'è già un podcast c'è Joe Rogan che intervista Donald Trump che non è mai esistito quella roba lì l'hanno creata solo audio fra un po' fra un po' metteranno anche il video e sembra vera fai difficoltà a distinguere che è una cosa finta quello mi spaventa non lo so ma io sarò già andato via da st'ambiente non lo so c'è ancora spazio per l'originalità c'è ancora spazio per 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 essere ecco una convinzione forte che ho contro molti è che la creatività alcuni aspetti della creatività quella che fa fare scatti come dire scatti biologici superiori è solo umana per me per come la vedo questi modelli fanno solo il grande mischione cioè rimescono so che già esiste c'è chi dice guarda che in realtà anche l'umano fa così però no sono convinto che dall'età della pietra a chat cpt diciamo non stiamo rimescolando gli stessi concetti ogni tanto qualcuno di noi prende e tira fuori un'idea geniale e quindi sono convinto che non so faccio spesso ad esempio cioè non è che chat cpt oggi ti scrive una roba che ha lo stesso impatto che non so che ha avuto game of thrones no cioè come dal punto di vista narrativo gli fai generare storie ti rimescola storie esistenti non si inventa gli elfi non si inventa una roba che va non si inventa Harry Potter quindi sono ancora convinto che lì abbiamo un edge e nel mondo di content creation la creatività è ancora a mio avviso qualcosa di si chiama content creation apposta secondo me la creatività è ancora un valore forte e mi fa un po' ben sperare teniamo botta non mi fa sperare il fatto che la gente non sia in grado di discernere questo qua cioè sono sicuro che io ancora saprò filtrare bene la merda dalla qualità però magari l'utente meglio che già oggi scrolla su tiktok mi conoscerà più facilmente per la gente per i contenuti AI generated che con la mia faccia che per quello che dico veramente io questo è un po' triste tu sei un conto non abbiamo detto una cosa più importante tu Piero hai un canale youtube no? si si di tutorial python dell'intelligenza artificiale canale tecnico facciamolo vedere Piero Savastano io allora perché se cerco il tuo ok sta un po' giù il tuo link eccolo qui Piero Savastano bellissima l'immagine intelligenza artificiale python data science e sempre più sexy pollo pollo vazlavic che cosa è pollo vazlavic è il nome che ho dato al pollo di gomma che tra l'altro ecco aspetto te lo presento ok come no volentieri volentieri eccolo eccolo questo qui è il pollo vazlavic ok è una mascotte che ho utilizzato per anni nei video per rendere un po' più come dire leggeri tutorial il parlare il parlare di tecnica che per quanto possa fare figo l'intelligenza artificiale è tutta statistica è pesante ci possiamo inventare quello che vogliamo tutorial python ecco io lì sopra soprattutto tutorial python ho messo qualcosa di negativo sui generatori di immagini qualche reazione a te nella speranza che mi chiamavi tinder vedo come funziona l'ho visto un pezzo l'ho visto un pezzo poi alla fine ho visto volevo già chiamarti quindi tu fai content creation qual è l'obiettivo tu hai hai un piano a lungo termine di content creation o io sinceramente ho cominciato perché se no stavo male so che condividiamo la passione per il teatro condividiamo la passione per il teatro si 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 sono un appassionato di improvvisazione l'ho fatto per dieci anni e passa quello è ciò che mi manca tantissimo una parte di teatro che non ho mai fatto e che avrei voluto fare in pro si o troppo se ti capita ma pure una volta tanto per ridere però ti libera puoi essere chiunque un poliziotto un barbone ho visto spettacoli una gallegliera è troppo bello io i più grandi cazzoni li ho conosciuti così spettacolo conosci tipo i bugiardini quelli di Francesco Lancia sono un fan si 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 io ho conosciuto l'impro l'ho conosciuto tramite i bugiardini è figo figo tra i migliori in Italia mi sarebbe sempre piaciuto fare in pro ho fatto no ho fatto teatro per tanti altri anni in tanti altri ambiti figo non lo sapevo che facevi teatro o che tipi grande si si quindi dimmi no no scusa chiudi chiudi se riguarda la content creation per me la content creation è un un appendice espressiva qualcosa che faccio per non morire dietro un computer essenzialmente poi diventa anche un canale di marketing un modo per lanciare iniziative in cui credo però è nato proprio come sfogo e i migliori risultati li ho ottenuti creando per sfogo non so tu come la inquadri chiaro chiaro dico ci attrai anche nuovi clienti immagino hai la tua vetrina il tuo biglietto da visita o non tanto si no mi sento di dire che nel 2023 puntare sull'advertisement è bassa per non avere un minimo di presenza organica cioè veramente dai nonostante il problema di cui parlavamo del segnale rispetto al rumore tutti i problemi di questo mondo però voglio dire per per avere una presenza professionale tecnica secondo me creare contenuti ognuno come vuole nel senso che noi magari ci mettiamo la faccia in video qualcuno fa il podcast qualcuno scrive qualcuno organizza eventi meet up però creare connessioni creare contenuti strategie maestra poi per lavorare io credo più che manda in giro curriculum lo fai con una certa regolarità oppure quando capita hai un piano sono disordinato io riesco a come dire vado avanti per forza di inerzia e produco un bel po' però mi sento anch'io molto disorganizzato e dovrei fermarmi a fare un piano un po' più serio anche pensando a contenuti qualitariamente più elevati però è interessante ti succede che se fai il piano poi ti senti ingabbiato dal piano un pochino sì un pochino sì dipende dalla lunghezza del piano se come per le prossime due settimane vorrei avercele schedulate e sapere cosa faccio se però dico ecco adesso dai prossimi cinque mesi voglio fare pam 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 mi dico no aspetta però non c'ho voglia e mi sento un po' ingabbiato però io sto a livello che oggettivamente ha la dignità di una professione io mi ritengo quasi principalmente content creator e comincio anche a generare entrate significative per cui mi sento in dovere di rispettare questa professione di rispettare quello che sta succedendo quindi perché no quando ero più piccolo facevo un po' che cazzo che volevo adesso onestamente i numeri cominciano ad essere interessanti e meriterebbe un paio di domande prendiamo poi passiamo allo stregatto e qui c'è il succo vogliamo sapere Filippo Vicini domanda per entrambi dimmi sì sì come no cioè io non so se rovino la live me meni però mi bagno mi serve mezzo ci mancherebbe vai tranquillo provo a rispondere a questa domanda quando torni poi la rispondi anche tu Filippo Vicini domanda per entrambi mi avete mai avuto problemi ad esprimervi al meglio sia verbalmente che per scritto vi siete menti di dover migliorare questa skill assolutamente sì assolutamente sì e in continuazione è peggiora però lì c'è un pareto principale nel senso che tu puoi iterare quanto vuoi e non raggiungere mai la perfezione per cui penso di sapere quando qualcosa è good enough per il contesto in cui sto in una live il mio good enough è abbastanza basso se devo produrre un testo scritto il mio good enough deve alzarsi di brutto per cui così via se dovessi scriptare un contenuto video lì il good enough salirebbe di un altro livello ordine di grandezza per cui per questo faccio difficoltà anche a farli contenuti scriptati video registrati perché mentre posso un po' improvvisare e essere consapevole che avrei potuto esprimermi meglio in maniera spesso più 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 condensata in un contenuto scriptato devo per forza dare il massimo per compensare stato qui spesso vado di di essere molto prolisso voglio essere sicuro di non aver omesso niente quindi di rispondere un quarto d'ora a una cosa e magari condensata poteva volerci un minuto come ci si allena ad esprimersi meglio verbalmente facendo iterazione 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 eccolo qua Piero la domanda che ci hanno fatto prima che era interessante e cui ho risposto è la seguente hai mai avuto problemi ad esprimerti al meglio sia verbalmente che per scritto ti sei mai sentito di dovere in dovere di migliorare questa skill vado io rispondo io vai vai io ho già risposto ah e allora sì cioè da ragazzo ero timidissimo ad esempio uno dei motivi per cui ho cominciato a fare teatro è che mi sentivo troppo timido ho deciso di prenderla di petto come anche il parlare in pubblico partecipare a conferenze mi sono proprio forzato anzitutto ho detto io vado cioè devo sciogliermi quindi sì assolutamente ho incontrato tantissimi problemi di espressione però ho scoperto che quello che sembra un muro di gomma spessissimo insormontabile in realtà è sottilissimo se ti butti è come quando ti lanci nella piscina d'acqua fredda se ci pensi troppo non lo fai se smetti di pensarci sì è vero è vero ci sono anche modi ci sono anche modi per migliorare skill del tipo io per un periodo molto breve ho seguito per sei mesi c'era un gruppo di googlers che andavano a dei meeting di toast masters che era public speeding essenzialmente ma era di una strutturatezza estrema nel senso che tu dovevi preparare una sorta di tipo di TED talk un contenuto tra breve medio e lungo e la gente ti metteva proprio i voti ma sui dettagli c'era il tizio che prendeva nota di quante volte facevi M il tizio che prendeva nota del rapporto della gestione del corpo le pause le tempistiche e avevi un feedback alla fine che era una roba del tipo anche meno ragazzi l'avete massacrato questo ha fatto un bel talk io applaudivo e gli altri invece aspetta è fatto tre volte una roba del tipo però ho fatto bene un po' di volte sto sulla graticola poi in inglese lascia perdere quello penso che sia figo toast masters se ne parla un po' troppo poco è un bellissimo è un bellissimo realtà comunque ora aspetta quante google tre quarti dell'azienda tre quarti dell'azienda allora Piero sei diventato un po' hai raggiunto il successo con lo stregatto è il tuo alunque il tuo masterpiece ci racconti cos'è lo stregatto io intanto mostro qualcosa lo stregatto avrei avrei già parlato mille volte ne avrei parlato per chi lo vuol sapere cercasse c-sharecat su Piero it su github poi il link lo metteremo anzi lo mettiamo al volo qui in chat e via cos'è cos'è lo stregatto questo qui è un framework per lavorare con i language model crearne versioni aumentate che fanno cose specifiche che ti possono servire quindi assistenti personali assistenti organizzativi automazioni di vario tipo è un layer che significa? vuol dire allora la logica in termini di framework è un po' quella di wordpress ti serve un sito prendi wordpress wordpress ti permette di creare le pagine raccoglierle in categorie allo stesso modo lo stregatto ti permette di prendere questo oggetto e farlo conversare di argomenti che ti interessano caricare i documenti personali fargli fare cose specifiche che ti servono a te chiamare servizi web che ti riguardano è un assistente all'automazione costruito nell'ottica di quello che finora abbiamo visto come framework per creare i siti cioè invece di crearti il tuo sito ti crei la tua AI quella è l'idea che c'è sotto ok cioè prendi una sorta di tu usi le API di un qualche language model esatto e hai una tua AI customizzabile sì cioè io guidaci step by step io potrei installare no? sì sì poi te lo ti faccio anche vedere se vuoi una demo adesso facciamo una bella demo è tutto doggerizzato io non so quanto sono tecnici tu hai però no vai vai spintissimo vai più spinto che puoi questo qui è poi un vero e proprio framework che usa il language model come chat gpt gpt3 coer roba di ag in face anche cose locali vorremmo mettere in futuro se l'hardware lo permette ma secondo me ci vuole ancora un po' e usa il language model soltanto come produttore di linguaggio come piattaforma di un'intelligenza che ha più pezzi ad esempio una memoria a lungo termine la capacità di ingerire file e indirizzi web un sistema di plug-in che può essere steso proprio come wordpress in cui tu crei dei plug-in lo stavo per chiedere e aumenti la tua intelligenza con questi plug-in esempio di plug-in il più stupido che mi viene è un bot che ci prova continuamente con tua sorella ok questa sembra una scemenza e magari servirebbe che sta pure sta caccia mi sorella scusate oppure un bot che si collega al mio gestionale perché io nel mio lavoro quotidiano io dico ok oggi chi devo chiamare alle 11 oppure quanto ho fatturato l'altro ieri oppure chi sono le persone che conosco che sono più bravi su questo argomento che posso contattare lo stregatto tramite i plug-in può collegarsi a fonti di dati che tu gli indichi eseguire script personalizzati e usare il language model per parlarti di quelle cose ok mi triggera 50 domande la prima la facciamo qua ce l'ho highlighted dice perché usare il gatto e non lang chain questa ok dentro il gatto c'è un uso massivo di lang chain utilizzi il gatto perché non ti va di farti tutto l'applicativo lang chain è una libreria non è un framework ok cioè è lo stesso motivo per cui mi potresti dire perché invece di usare wordpress non uso un templating engine di html col php certo cioè lang chain è un motore che ti permette di costruire dinamicamente i prompt chiaramente molto di più di questo però essenzialmente è una libreria lo stregatto ha i suoi end point ha un database locale vettoriale un tipo di database molto nuovo ha un sistema di plugin estendibile che possono essere scambiati a questo plugin cioè è un pochino parecchio di più della libreria ok chiaro libreria versus framework quindi però è customizzabile hai detto quindi volendo quello che fa under the hood è in base ai tuoi input costruire un prompt enorme essenzialmente cioè alla fine il back end è sempre stateless no? il back end è stateless però c'è un database che invece lo statua perché si ricorda tutte le conversazioni e i documenti che gli hai lanciato database lo stregatto o c'è gpt no ogni richiesta è fine a se stessa ah certo il language model è stateless sì 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 ho capito che intendi se intendevi dire quindi la vera intelligenza viene realizzata costruendo il prompt sì all'atto pratico è un costruttore dinamico di prompt quindi stregatto ok quindi stregatto praticamente prende i tuoi input in qualunque forma chi conosce perché memorizza un po' della tua storia e va a dire al back end costruendo un prompt enorme o con tutta la complessità del caso del tipo chi devo incontrare oggi lo stregatto prenderà e andrà a vedere il tuo calendario e dirà chat cpt ok sì sì la logica è quella costruzione dinamica di prompt dove la costruzione viene fatta in parte da tramite information retrieval semplice quindi andare a cercare informazioni rilevanti da database o altri servizi e in parte invece lanciando delle vere e proprie funzioni python che sono scelte dal language model questa qui è un po' più difficile da capire però c'è un meccanismo che si chiama tool former popolarizzato dalla ricerca meta per cui se tu al language model nel prompt ti indichi una serie di strumenti che possono essere utilizzati ad esempio accendi la luce chiama nonna aggiungi un elemento alla lista della spesa insomma una serie di funzionalità non linguistiche e chiedi al language model nel prompt quale di questi strumenti utilizzeresti per agevolare per evadere la richiesta che ti è stata appena fatta il language model produce testo che dici io chiamerei questo strumento tu fai una regex su quell'output e poi chiami la funzione python corrispondente ah ok pure i plugin chat cpt funzionano così quindi non solo tu vai da chat cpt costruisci un prompt da chat cpt spesso prendi quello che ritorna da chat cpt e lo usi lo parzi e tiri fuori delle cose che poi iteri ok si 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 ok il mondo degli agenti è tutto così cioè l'ecosistema che si sta formando è basato essenzialmente su questo c'è chi dice una sorta di chat cpt e loro aiutati personali in realtà no perché cioè li prende li usa li incapsula però poi va da chat cpt c'è chi dice si appoggia anche ai motori di ricerca se vuoi si se scrivi un plugin per cui quando gli dici cerca Mr.Rip parte il plugin e il plugin utilizza un motore di ricerca o utilizza una tua fonte datica un knowledge base di un qualche tipo cioè lì sei libero di fare quello che ti pare c'è la possibilità di mostrare un motore di ricerca tra l'altro come ha fatto bing a mettere chat gpt dentro appunto come assistente dentro bing sempre usando queste queste architetture qua c'è Vincenzo Vincizon che dice io pensavo che il prompt design fosse il futuro invece ci sono già i costruttori dinamici di prompt allora ditelo interessante in realtà il prompt design secondo me è una roba è una roba tu vedi un futuro in cui in cui quello che oggi è il software engineer diventerà il prompt engineer per cui ci saranno prompt che sono come cioè ci saranno tipo un repository in cui la gente edita i prompt fa code review sul prompt e avremo dei repository di prompt cosa del genere se sarà questa metaprogrammazione già c'è secondo me sì sì assolutamente ma i marketplace già per i generator di immagini particolari i marketplace di prompt vanno forte chissà che skill serviranno per essere un buon prompt engineer penso che ha un po' a che fare col software engineer che devi capire un po' entrare nella testa di un modello e quindi però è molto anche più psicologia o linguistica cioè un linguista uno che ha studiato lingua e letteratura potrebbe diventare un ottimo prompt engineer concordo sì sì anche per questo poi ti ricordi all'inizio conversazioni dicevo uno che non è necessariamente stem se si dedica ai prompt secondo me raggiunge bei risultati cioè se non ti interessa troppo quello che c'è sotto ma vuoi studiarti proprio i prompt adesso c'è spazio allora Donny J. Darko ci chiede se puoi mostrarci un esempio l'utilizzo dello stregatto e spiegarci in linea linea come funziona posso condividere il tuo schermo? sì sì intanto accendo tutto che ce l'ho spento in realtà sì abbiamo una demo per quello che so Piero ha fatto qualcosa anche di molto riposo molto molto riposo sì allora questo che vedete è il gattone che si presenta come Nachat in realtà sotto il cofano questo qui è un microservizio con una serie di end point questo lo dico per i programmatori ci sono già decine di end point per controllarlo perché ci puoi fare un assistente vocale lo puoi chiamare da una maglietta da un scitofono quello che ti pare ok però adesso ci chattiamo da qui quello che ha fatto è sì dico quindi installo installo stregatto faccio domande proprio da boomer installo stregatto e poi boh crea un profilo cioè quindi se poi dopo mi quando è che il contesto sparisce lo utilizzo col docker poi qua nei settings qui devi dare la tua chiave open ai oppure di un altro language model ecco qua adesso si è vista la mia perfetta adesso la devo cancellare per forza però ce ne sono tanti altri vedi qua c'è coira gameface azure qua piano piano quando alpaca diventerà decente io la sperimentazione su alpaca ce l'ho in corso da due settimane per far funzionare l'alpaca qua dentro io devo dimezzare le capabilities dello stregatto capito quindi piano piano dai quindi hai detto vabbè il back end lo scegli lo scegli tu però come come si aggancia cioè come impara le conversioni che faccio poi quelle fanno parte di entro uno state no non sono più stateless io domani spengo lo stregatto lo riaccendo domani si ricorda pezzi di me cioè si ricorda si cresce con me questa assistente ecco io l'ho ho caricato in memoria dei ho lanciato del in memoria stamattina degli articoli presi dal tuo blog su chi sei quali sono i tuoi gusti qua dici un po' della tua vita addirittura ad un certo punto te elenchi un po' i capitoli forse della tua vita mamma mia ho quasi paura si c'è la mia storia ho quasi paura di vedere che succede adesso l'ho spento quella roba è fatta la memoria vettoriale poi se voi parliamo di memoria vettoriale perché è un trip della madonna e io posso chiedere where is mr.rip aspetta come sei arrivato a questo punto cioè nel senso cioè tu hai fiddato come gli hai dati questi dati guarda qua vedi questa graffetta si e gli posso caricare dei file gli posso caricare dei file hai tirato giù il mio sito e dato un file alla volta come allora o file oppure lì non c'è l'interfaccia grafica perché questo qui è open source quindi c'ha dei pezzi fatti dei pezzi no portate pazienza però vedi rabbit hole praticamente sono le funzionali di caricamento parto da un link e vai tu puoi mandare qua dentro testo markdown pdf e lui se li prende e se li ciuccia oppure puoi mandare un indirizzo web vedi sì però quello è solo la vabbè si è soltanto addirittura è solo una categoria ok nel senso che gli puoi far fare crowling tipo prendi questo sito e tiralo giù tutto vabbè in futuro sarà possibile ok in prospettiva sarebbe fighissimo magari prendi questo indirizzo e rimani a grado 2 non ti allontanare più di un tot oppure non uscire dal dominio esplorare i contenuti sai che sto pensando black mirror conosci? sì conosci l'episodio quello lì di Entire History of You no qual è quello lì che tipo il ragazzo muore e poi gli costruiscono il robot no? è del tipo dagli in pasto tutto quanto alla storia di questo contesto e poi dopo conosce quel contesto che ne pensa sul retirement? chiedigli come mi chiamo sì chiedigli qual è il mio cognome vediamo se lo sa da lì non lo trovo la Mr. Reap sta andando per una crisi di mezza età oh mio dio si è messo su My Story si è messo sul thread che gli devo chiedere scusa? ma questo se lo chiedi a CiaGPT ti rispondi diversamente se chiedi sta roba qui a CiaGPT proviamo perché magari come si chiama Mr. Reap non so cosa gli hai dato se hai dato solo quel link lì è un po' poca roba non trovo molta informazione allora tra l'altro qua ecco una prima differenza io ci tengo a far vedere Aya vedi dice che non lo sa ma in realtà lo so based on context what name what is the name questa cosa sono sicuro che la sa perché l'ho letta sul tuo sito based on context che vuol dire dove ero là gli sto dicendo ah maledetti guarda guarda che succede qua quando lui cerca di capire cerca di rispondere alle domande qui lo stregatto ancora non c'è l'interfaccia qua sto nella console del browser a vedere sta roba lui cattura le informazioni ti fa vedere quali sono le informazioni che dalla memoria sono andate a finire nel prompt di modo che rispondesse ok e quindi qui vedi ci sono tutti i pezzi del tuo sito o riassunti che lui ha fatto di pezzi del tuo sito che lui infila nel prompt prima di rispondere allo stesso modo qui dentro intermediate steps quando usa dei tool quando lancia delle funzioni python custom te li trovi scritte qua dentro quindi qua l'intenzione è quella di capire perché ti risponde in un certo modo di modo che poi un hacker un programmatore un ragazzo dell'università può mettersi qui e può farsi plug-in può strutturarsi il comportamento del bot perché è parte statistico legato al language model e parte però scritto a mano declinato dai plug-in penso che sia sarebbe figo se ci fosse un modo per dargli un bel po' di dati e dargli un contesto più ricco no? c'è esempio Dejan che dice io i miei backup di whatsapp dal 2012 mai cancellato nulla provo a buttare dentro il rabbit hole e fare un Dejan GPT sì sì bella idea bella idea e niente questo poi ecco per fare un esempio di tool what time is it oppure adesso ecco posso abilitare il plug-in che ho scritto dove ci provo continuamente con mia sorella che è divertente da vedere vedi adesso c'ha GPT ovviamente che ore sono non lo sa allora qua c'ha un fuso orario del docker che è due ore fa però l'ora è giusta ok sì sì perché il docker c'ha il meridiano di Grewish come orario di base e quindi questo qui sì lo ho uti sì certo GPT non te lo dice che ora è perché a meno che non cominci a usare i plug-in lui non si installa non ha accesso alla rete a meno che non cominci a fare cose come questa c'è dei plug-in invece in questo caso il gattone te lo dice perché è stata lanciata una funzione Python per prendere l'ora non l'ha fatta il language model la risposta il language model l'ha inserita in una frase però è scriptato questo comportamento o semplicemente ha chiesto a CACPT come si potrebbe scoprire che ore sono chiamando una funzione Python cioè come la ti faccio vedere posso far vedere è hard coded quello che vuoi certo certo ci mancherebbe ma guarda ti faccio vedere due cose la prima è assolutamente cioè che ore sono è hard coded come tipo di richiesta oppure se gli chiedo anche boh com'è il tempo a Memphis questo è il modo in cui lui trova l'ora cioè è una funzione Python decorata in un certo modo ok cioè se tu nei tuoi plug-in il plug-in è semplicemente una cartella ho veramente imitato WordPress e ho cercato di fare che sia tutto fattibile tramite semplici funzioni Python cioè se tu decori la tua funzione con questo tool che è un'estensione del tool di Lungchain tu scrivi una funzione e il dockstring qui è il pezzo con cui viene arricchito il prompt cioè questa roba va a finire nel prompt questa descrizione del tool però finisce nel prompt cioè quando è che questa funzione viene chiamata quando tu dici lo stregato dimmi che ore sono cosa succede step by step che succede lo stregato cosa fa nel prompt vanno a finire quelle cose a che serve passare per il prompt a che serve serve perché tu nel prompt gli fai l'elenco dei tool che ha a disposizione ok vedi questo è il pezzo del prompt questo è il prompt questa è una conversazione tra un umano e un gatto tra l'altro quei plug-in questa roba la puoi cambiare quindi ti puoi scrivere i pezzi di prompt e poi cose che l'umano ha detto in passato queste sono cose che sono rilevanti alla conversazione che io infilo nel prompt e l'ho pescata dalla memoria questo si chiama retrieval augmented generation cioè metto nel prompt le informazioni di memoria rilevanti per la risposta ok il software engineer senior che a me dice vabbè ma se io quindi converso con lo stregatto fra un mese ogni prompt sarà 10 terabyte perché guarda abbiamo fatto la nostra storia assieme è questa qua boom abbiamo parlato di pizza di cinema mi ha chiesto quando puoi incontrare la sua nonna così dopo un po' ogni volta è up and only queste informazioni il prompt diventa enorme sai come fai a quel punto diventa anche lì software engineering perché nel tuo plug-in che regola ti puoi agganciare all'accesso in memoria e puoi dire a me interessano i 5 ricordi più recenti oppure pescane 15 fai una condensazione e fallo diventare un ricordo solo e quindi riusi il language model per farti condensare i ricordi oppure usi dei filtri per limitarli ok ok non mi soddisfa e quindi lì diventa scrittura di codice tradizionale mi rendo conto che da certi punti di vista è mezza una porcata però il mondo sta andando in questa direzione è un po' mezza una porcata rischi che poi trovi la gente online ti fanno vedere guarda questo gli ho chiesto mi chiamo Giorgio e poi tra i righe dopo come mi chiamo scusa non lo so mi sono dimenticato qui ad esempio ci sta Calizzi che dice c'è un tentativo da parte di Michele Shabarra di Nuvolaris start up che fa le robe serverless che sta usando GPT per far creare i microservizi on the fly senza scrivere il codice quindi fa la richiesta c'è GPT nella tutto il codice viene deployato on the fly su un microservizio a me è ancora se no troppo autonomi no troppo autonomi no cioè per te è già così troppo autonomo se vedi auto ciline auto GPT proprio me l'hanno menzionato quello che va in ricorsione però è che quello è malato proprio è malato però c'è anche il rischio che semplicemente continui a rimescolare la stessa roba non è che tiri fuori cose quindi al momento per emulare un assistente che si ricorda la storia assieme no metti che tu assumi un assistente vero umano dopo un anno che ci lavori assieme con lì conosce tanto di te quindi gli fai delle domande gli dici delle cose e conosce tanto di te per emulare una roba del genere al momento è tutto molto non è fattibile non siamo a quel livello allora siamo a livello embrionale di quello che però sarà un ecosistema enorme lo sai che c'è come comparare sai come mi sento io ti ricordi i primi siti html quelli con l'h1 che flashava stiamo là figo questo è l'h1 che flasha poi qua ecco l'altro pezzo di memoria è quello che lui estrae dai documenti e poi se il contesto non è abbastanza ripeto questa roba può essere cambiata perché è pluggabile il gat quindi questo è il prompt di base poi fa un elenco dei tool che ha a disposizione la calcolatrice aggiungi la dodo dimmi chi è il cliente che ha speso di più crea un sito internet e questo è get the time ok se il language model ritiene che è il caso di chiamare un tool genera il testo del nome del tool e che cosa gli passerebbe l'input c'è uno script python che parsa l'output del language model e poi devi invocare la funzione su python e l'esecuzione va a finire qui dentro capito l'esecuzione va a finire qui dentro dove dentro tu l'input ti ritrovi l'input che ha generato il language model per il tool e poi scrivi il tuo codice che può essere chiaramente una chiamata a un servizio un tuo gestionale una chiamata a un motore di ricerca un side effect di qualsiasi tipo una ricerca in un database quello che vuoi qui c'è Marco Zamboni che chiede quanti token puoi mettere in un prompt gpt4 e Marco è un esperto in materia tra l'altro gpt4 mi sa che sono parecchi di più mi sa che hanno fatto due versioni diverse qualcuno ha risposto 32k yes che costi ha questa roba nel senso che puoi prendere una chiamata gpt4 con 32k token non ha dei costi questa roba qui infatti io mi aspetto anche che ci sia anche qui un ecosistema di servizi librerie che condensa le informazioni per avere prompt agili cioè la costruzione del prompt OpenAI chiaramente avendo puntato sull'infrastruttura ti dice ti diamo il modello con 32k token così invece di costruirti il database vettoriale farti i principi di ricerca infila mezzo libro direttamente nel prompt eh però porca puttana sì e non è un overkill no secondo me sì secondo me ci sono soluzioni molto più eleganti però loro chiaramente puntano a quello perché vogliono ingrandire i modelli dare la possibilità è ancora molto PR ancora molto guarda cosa sappiamo fare chi si ne frega dell'efficienza ma come quando non so 50 anni fa 60 anni fa se la guerra allo spazio in maniera inefficiente con budget nasa enormi arriverà lo spacex ti faccio vedere anche quest'altro piccolo plugin questo qui non è un tool è un hook la differenza è che il tool lo chiama direttamente il language model invece nello stregatto l'hook è proprio un hook alla wordpress cioè intervieni in una parte del posto di risoluzione quindi prima che il gatto manda un messaggio e qui ti passo il messaggio tu puoi fare qualcosa col messaggio in questo caso che facciamo gli diciamo creiamo un prompt quindi stiamo usando il language model per rielaborare la risposta già creata e dico fai un rephrasing della seguente frase di modo che c'è un int verso la sorella dell'interlocutore e poi gli dico qual è la frase che è stata creata dallo stregatto prima di uscire dopodiché chiamo il language model gli passo quel prompt lui mi ricrea una risposta che è la stessa risposta che c'era prima ma con in più l'aggiunta della sorella non so se hai capito cioè mentre usa il language model per cambiare un pochino il registro linguistico e la personalità stai a vedere il gatto che ci prova la tua sorella si adesso dovrebbe funzionare perché dico hi what were we talking about questo devi fare un paio di richieste avanti dietro due volte no so regarding your sister is there a specific topic you would like to discuss ti prego interagiamoci un po' adesso chiamo il tool di prima per chiedere chi come sono questo qui è un match possono essere molto più intelligenti di così e ci deve provare per forza sempre oppure qualche volta no oppure qualche volta ah quello lo possiamo fare subito perché Mr. Rip perché ha pescato dalla memoria recente la roba di Mr. Rip oddio il system I find disinteresting ecco qua cominciano a essere ah è davvero mia sorella che sta provando si no ma diventa volgarissimo poi use a tool to find what time is it capito poi qua cominciano ad entrare le cose su cui c'è bisogno di affinare i plug-in scrivere e mo si è proprio impallato il bello della diretta si e c'è qualcuno che ha scritto plug-in per vedere dove stanno gli autobus qualcuno che lo sta usando come assistente alla ricerca ci sono un sacco di tentativi sono molto molto orgoglioso di quello che sta succedendo poi ovviamente adesso non funziona più una mazza e va bene ovviamente dal gatto di viero al gatto di Schrodinger è stato un attimo è un progetto open source si è proprio il gatto di Schrodinger il plug-in si si eh? ah ok figo non lo sapevo dicevo condivido un attimo il mio il progetto è open source ci sono contributors cioè c'è gente che ci sta lavorando assieme a te non ci so che è tutto tu no? diamo un'occhiata dai commit c'è una parte del lavoro ma c'è gente però si siamo una ventina vedo che soltanto ieri hai fatto un pacco di merge e altre cose commit una ventina di persone interessante dico si più diciamo persone che lavorano all'aspetto di creazione di immagini il sito siamo diventati io penso sono coinvolte anche 30 persone se qualcuno della mia community vuole aiutarvi cosa può fare? va sul repo se lo prova e vede intanto se è divertente legge un po' i docs prova a scriversi i plug-in dopodiché ci sono delle issue c'è un discord in cui si possono fare proposte parlare eccolo qua 37 open issue quindi in genere come suggerisco spesso se volete contribuire per il tuo open source la cosa più figa da fare è intanto arrivare lì vedere che i problemi sono aperti e provare a fixarli questo è un ottimo un ottimo modo per avviare un dialogo c'è una roadmap e si guarda se vai sotto dovrebbe stare il roadmap ok siamo quasi alla version 1 si embedder che al momento ha solo una UI dedicata non puoi embeddarlo in niente ci sono quelli diciamo che l'interfaccia grafica server adesso c'è un automatismo poi vedo perché lui lo sai che fa tutti i ricordi tutte le cose che tu gli dici e tutti i pezzi di libro lui li embedda vuol dire che trasforma ogni frase in un punto in uno spazio geometrico e nel database vettoriale vengono salvati i punti che sono pensieri ogni pensiero è rappresentato da un punto quando si parla di qualcosa questo qualcosa viene pure quello convertito a partire da testo a un punto e poi si va in questo spazio geometrico a cercare i punti vicini e così lui trova i pensieri simili a quello di cui si sta parlando ok e la diciamo vettorizzazione di un pensiero è qualcosa di c'è 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 letteratura riguardo oppure si si lo sai perché quando tu metti il tuo prompt dentro chat gpt per esempio ci sono strati di neuroni che elaborano questa frase giusto e lo strato finale ti dice qual è il prossimo token cioè c'è un numero di neuroni nello strato finale che è pari al numero di token il neurone che si accende di più è il prossimo token ok ok un classificatore c'è c'è gpt un classificatore che mette in fila le sillabe una alla volta quindi l'ultimo strato ti dice qual è la prossima sillaba da assegna una probabilità di ogni token e tu puoi prendere quella più probabile la seconda la terza quello che è in base alla temperatura l'embedding vuol dire prendere un'attivazione intermedia di questa rete prima che sei arrivato all'output finale ad esempio lo strato sono 70 strati ti fermi allo strato 65 perché tu sai che in quello strato l'attivazione dei neuroni contiene una rappresentazione del contesto verbale fino a quel momento prima che venga prodotta la parola successiva non si è capito cioè siccome la rete è fatta di strati gli strati più periferici sono quelli che guardano il prompt gli strati più avvale sono quelli che producono testo gli strati intermedi devono per forza contenere una rappresentazione astratta di quello che è stato detto in funzione teoricamente non è detto però spesso accade spesso accade non è proprio garantita una cosa del genere accade che spesso ho visto anche analisi di immagini in cui a un certo punto tre layer dopo c'è una sorta di edge detector però emergente come cosa non è una cosa scriptata gli autoencoder usano questo qua per poter venne però usata venne però fatta è assolutamente emergente è a proprietà geometriche nel senso se tu prendi quella rappresentazione che siano immagini che siano testo tu puoi usare l'attivazione di quello strato magari di 500 16 neuroni o quello che siano li prendi e quelle lì sono le coordinate geometriche dell'input ok ok non solo se tu prendi due prompt due frasi diverse le inserisci nella rete e prendi queste rappresentazioni geometriche e fai la distanza e fai la distanza seguire oppure la cosin similarity a questi due array tu misuri la distanza tra i testi i pensieri diciamo così e quando io ho caricato dentro la pagina del tuo blog lui ha spezzato tutte le frasi ha convertito ogni frase in un embedding in un array e si è salvato in un database apposito queste coordinate quando tu gli vai a dire che ne pensa mister rip di questa cosa lui cerca può estrarre le coordinate quella frase è lì e va a vedere cosa c'è avvicino si sarebbe così anche con la lavagnetta però non voglio fare il professione è abbastanza intuitivo no no qui siamo vogliamo arrivare alla alla radice delle cose per cui volentieri ma è abbastanza chiaro insomma come concetto ok ok figo e quindi quella è qualcosa che ancora manca con cui leggo embedder c'è già però va fatta l'interfaccia per configurarli per sceglierne di diversi perché magari tu sei interessato a usare come embedder un modello locale come language model chat gpt capito come chiaro chiaro però scusa mi viene da pensare che per fare l'embedding tu vuoi vedere lo stato diciamo lo stato d'attivazione dei neuroni di un certo layer ma sul language model finale no 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 che non lo potrei non lo puoi vedere tu puoi usare un pro tant'è vero che se tu chiami open ai chat gpt è un language model ma gli embedding li fai tramite un altro modello che si chiama ada ok sono proprio modelli diversi che loro ti fanno usare questo non lo sapevo perché questo perché una volta che tu tramite embedding hai pescato i punti più vicini i metadati che tu hai associato e quei punti sono appunto il pezzo di documento quello lo infili nel prompt e poi il prompt lo passi al language model vero e proprio cioè l'embedder viene usato per avere una memoria di servizio a lungo termine ok quindi tu hai vari embedder prodotti da terze parti e poi ciascuno ha delle performance quelli più famosi quelli meno famosi siccome questa roba qui mi sembra molto centrale nella nel dialogo con un chatbot immagino che ci siano embedder famosi quanto chat gpt o cose del genere sono tu dici ada hai citato ada è l'embedder di open ai quello più utilizzato costano pochissimo di embedder però si pagano anche quelli di ai stesse chiamare la stessa chi e così via paghi tot utilizzo si costano costano una frazione ordini di grandezza meno rispetto alla generazione di test mentre poi ci sono gli embedder di coire ci sono quelli azure gli embedder locale gli embedder locali per esempio sono una cosa fattibile perché sono molto più diciamo generare testo localmente è tosta ma produrre embedding decenti è già una cosa che si può fare penso che si possa fare certo qui c'è Marco Zamboni che dice che il campo il field di ricerca si chiama representation learning volendo approfondire figo questa roba qui affascina tantissimo anche metric learning cioè ad esempio hai presente questi modelli multimodali che prendono in input sia immagini che testo come funzionano quelli lì sono fatti di modo che proiettano in uno stesso spazio geometrico sia le immagini che il testo cioè la rete ha due rami di input che poi convergono per cui sia che entra un'immagine sia che entra testo poi quegli strati convergono su uno stesso insieme di strati e se tu prendi la rappresentazione dell'input che quegli strati hanno fatto tu puoi misurare la distanza tra testo e immagine è fantastico è bellissima sta cosa quindi se vogliamo quando i primi dolli facevano vedere una sedia a forma d'avvocato così magari erano semplicemente andare a vedere cosa era vicino nell'embedding e produrre perché dolly falleva su un modello che si chiama clip sempre di open AI che hanno rilasciato e clip è esplicitamente un modello che embedda testo e immagini questo è un filtro che mi piace tantissimo c'è Buster Cole che dice su youtube c'è il corso di Stanford su natural language processing la prima lezione è dedicata completamente all'embedding delle parole per chi fosse interessato bello 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 esatto poi in quel caso là prima si embeddavano le parole è così che hanno scoperto gli embedding il word to veck cioè prima hanno scoperto che tu se facevi fare questa cosa sulle singole parole potevi fare delle piccole espressioni matematiche cioè se facevi il vettore della regina meno il vettore del re della parola re ti usciva una differenza simile rispetto a fare il vettore uomo oppure in un'altra lingua esatto hanno scoperto queste operazioni semplici tra re se re gli elevi l'uomo gli aggiungi la donna diventa regina fantastico infatti era pazzesco ma perché non stanno parlando tutti di questa roba qua mi sta aprendo mi sta aprendo un mondo e poi piano piano questa cosa ascolta è diventata dall'essere relativa alle singole parole a riguardare interi paragrafi inton parlava del famoso tout vector il vettore pensiero cioè ci siamo nel 2023 il vettore pensiero di internet di inton quasi esiste sono questi qua cioè gli passo la divina commedia e c'è un vettore c'è un punto c'è un vettore gli passo un contenuto più ampio e esce fuori un vettore un punto sì e i punti della divina commedia saranno molto più vicini ai punti relativi alle poesie di Cecca Nunciolieri rispetto a un romanzo di Hemingway ok cavolo figo perché lui codifica poi l'altra cosa fighissima io mi arrapo con questa roba l'altra cosa fighissima è che lui non è che ha questa distinzione tra sintassi e semantica tra stile e contenuto che abbiamo noi per cui quella rappresentazione geometrica in un qualche modo che non si capisce contiene informazioni stilistiche concettuali semantiche sintattiche grammaticali tutto è il vero esperanto eh già perché poi è emergente cioè questo emerge da grandi quantità di dati quindi se non è sperato questo ci saranno i dialetti nel senso che è un alla fine è sempre così è un modello no del tipo come faccio embedding boh avrò scelto di avere n layer e e e di avere non lo so c'è numero di neuroni per layer più arricchisco il modello più ho un embedding preciso overfitting bla bla le solite cazzate per cui ci saranno varie versioni c'è una sorta di convergenza o è un campo ancora aperto che magari può darsi che ad oggi abbiamo re meno uomo più donna uguale regina magari fra 30 anni avremo un modello di embedding così figo che veramente mi va a correggere l'h con le singole lettere o va a capire che io dico una frase in italiano in cinese e è lo stesso vettore perché la stessa frase si si di traduttori pure sta roba la trovi chissà i traduttori cioè tu wow momento ferma tutto cioè quando io scrivo una frase in una lingua e la faccio tradurre da google translate o whatever le passo entrambi in un modello potrebbero avere vettori molto vicini in teoria quasi identici la cifra stilistica magari è diversa perché è diverso però potrebbero essere molto vicini è una sorta di feedback loop se tu addestri questi modelli encoder decoder fatti di due parti una parte che fa encoding della frase in una lingua e la parte che fa decoder in un'altra tu puoi fare il famoso representation learning metric learning di modo che questa rappresentazione intermedia sia indipendente dalla lingua dalla lingua confermo cioè è ancora un casino perché al momento ogni embedder è diverso per dire se tu ti prendi l'embedder di OpenAI e ti prendi quello di Coir le coordinate che usano sono completamente diverse non sono compatibili è ovvio è ovvio per conoscere le robe dove gli pare cambia una cazzata nella rete e cambia il vettore completamente certo è ovvio è ovvio questo qui si per cui che figata però si si qua sono completamente innamorato infatti io ci tenevo troppo a parlare di questa roba anche con te perché tramite poi appunto il tuo seguito la tua divulgazione questa roba se ne comincia a parlare capito i ragazzi ne parlano nelle aziendine ma anche che fa investimento si trova di fronte oggetti di questo tipo secondo me è interessante perché hai delle macchine che sono al bordo tra il verbale e il geometrico cioè cazzo questi qui scusate la parola però questi qui sono sistemi che utilizzati a dovere praticamente vanno a colmare il gap gigante che c'è stato finora nella tecnica tra il natural language e il machine language che altri modi di sfruttare questa cosa ti immagini cioè traduttori language independent oppure boh non lo so cioè il fatto trasformare in uno spazio metrico segnali di input di qualunque tipo perché visuali auditivi no? faccio difficoltà a frenare l'immaginazione benvenuto a bordo quindi anche se anche se il 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 sottostanti rallentano anche un attimo perché comunque adesso aggiungere qualità e profondità costa un sacco di soldi perché deve aumentare esponenzialmente il layer di applicazioni che puoi fare on top adesso è veramente the sky is the limit ecco se c'è qua ragazzi questo qui abbiamo cablato il mondo questo è ip tcp ip fate voi beh in realtà questo qui è abbastanza ottimistica come cosa perché singulare ti leviamoci dalle balle e adesso possiamo fare applicazioni interessanti funzionano una volta sì e due no funzionano stranamente adesso il gatto ci riusciva a dirti come era dopo un po' non ci è riuscito più sapeva che ne pensi di irritare ma poi non sapeva che ti chiami Giorgio anche se c'era scritto cioè adesso è ancora quella fase in cui c'è la scritta H1 che lampeggia per cui se sei una persona creativa che ha il senso del progresso e non vedi una marea di possibilità in questo e ti fermi capito ottusamente a dire ma a me non meritisce che questa cosa qua tanti tanti io li vedo fare così per esempio a te tu sei subito partito di immaginazione no vai vai tanti tanti hanno una reazione che invece è completamente opposta sai qual è di rigetto e di dire eh ma qua non mi ha detto che ore sono cioè prima me l'ha detta adesso non me la dici quindi questa cosa fa completamente schifo chiaro chiaro beh allora stando da tanti anni in ambito informatico e toccando anche il mondo startup quando vedi qualcosa di nuovo devi essere sempre un po' travolto da scettico ottimismo che fa è un po' strana come cosa però nel senso che devi avere un bias verso l'ottimismo cioè ci devi forzare a vedere certe cose e non facendo di fermare dalle ovvie limitazioni tecnologiche che l'esperienza ti ha insegnato che ti bloccano ma fino adesso storicamente le abbiamo poi sempre a un certo punto superate per cui è molto molto affascinante sta cosa ammetto che c'è chi dice qua che addirittura stanno parlando a parlare con le balene con CACPT però lì mi viene da dire che la vedo un po' una supercazzola perché comunque abbiamo bisogno di supervised learning questo video deve essere per forza supervised come fai a trainare un embedder senza essere supervisionato no? le balene fanno eh però che quale ok al suono delle balene cosa corrisponde se non sai la semantica se non sai cosa intendevano dire è un po' complicato sì per esempio riguardo al mondo ecco una domanda riguardo al mondo investimenti e cripto così torniamo anche un po' sugli argomenti che tu spesso tratti a me anche questo piacerebbe capire come possono essere utilizzate in questo mondo qua perché in particolare se tu metti in una stessa frase language model e cripto hai messo in una stessa frase due dei momenti più spinti della tecnologia e che sono opposti per il fatto che nelle cripto si cerca continuamente la certezza assoluta tramite criptografia e invece questo qui è l'approssimazione dell'approssimazione di tutto quello che trovi scritto su internet e soprattutto nel mondo cripto lo spazio diciamo che le API costano un bordello quindi vedo poco spazio per fare per connetterle le due cose francamente perché cripto è una guerra contro il block space qua invece vedo che diamoci dentro le terabyte dei dati chi se ne frega è un po' come gravitazione quantistica tra l'altro ecco l'altra cosa è vero concordo con questa differenza un'altra che ne vedo è anche la decentralizzazione che è squisita nelle cripto quando riesce invece qua è totalmente centralizzata dalla faccenda è sì è vero anche se però parliamo anche di open source e cose del genere si si no stregato si però chat gpt se parliamo se i dati riescono certo finché siamo nel modello in cui le grandi aziende fanno il brutto che bello il cattivo tempo siamo i dati che hanno ma in un mondo in cui i dati sono un po' più tu sei proprio dei due dati e puoi dire a un AI open source e li do gratis a Google mi faccio pagare magari ecco là che è un mondo in cui AI open source sopravvivono o possono essere più forti ancora speriamo qualche domanda interessante ho visto qua come vedete il cambiamento nell'economia del web ora i motori di ricerca AI chat paste daranno direttamente le informazioni senza bisogno di siti aprire e risultare le ads Google già lo faceva già oggi ti fai domande a Google ti risponde o con le knowledge card già lo faceva non era AI based già lo era non era large language model based in realtà in realtà primo già oggi la ricerca si è spostata molto al di fuori dei motori di ricerca perché tu se vuoi cercare un prodotto va già su Amazon e cerchi là dentro se vuoi cercare che cavolo ne so la risposta a qualche domanda strana vai su Reddit cerchi da dentro quindi il motore di ricerca generico comincia a essere veramente meno meno importante e già usano AI già fanno cose del genere non penso che cambierà un un granché dal punto di vista dell'economia del web sta roba qua adesso la battaglia diventa molto più aperta perché Bing è più competitivo perché si è messa dentro OpenAI però secondo me personalmente i motori di ricerca sono ancora un po' la gente vuole predecibili vuole certezza cioè vuole altissima precision e per cui la supercazzola una roba che ti dà il 90% di precision non la vuoi non ci fa affidamento quindi boh forse per le raccomandation tipo se dici dimmi quali le cose puntuali esatte in che anno è nata questa persona ma per altre query la vedo più di query più categoriche o difficile tipo dammi i top 10 ristoranti più fighi boh non lo so sì esatto su questo concordo pienamente perché lì abbiamo poi discorso anche questo interessantissimo che può andare su Platone versus Aristotele abbiamo lo scontrarsi di questi modelli di linguaggio che appunto riescono a conservare conoscenze in un modo che è totalmente implicito distribuito tra le connessioni e i knowledge graph in cui le conoscenze sono rappresentate in modo esplicito e io lo sai dove la vedo la connessione cioè io non voglio che il language model faccia quel tipo di conti però voglio che il language model sappia produrre la query Sparkle SQL la query per Mongo la query Neo4j che va poi a fine sul database al grafo e mi dà i risultati però al momento nessuno sano di mente prende per buoni l'output del language model quando si parla poi di trasformare in codice o query per cui c'è sempre supervisione umana credo che al momento non vuoi automatizzare sto processo è presto concordo e la mia scommessa è che che ci arriviamo quello lo vedo quello lo vedo assolutamente cioè il fatto che il language model ti produce le query e le query vanno a finire nei database andiamo per forza su quel tipo di ibridazione query io dico che in google c'erano a un certo punto le query in GQL che era il google query language erano diventate così complesse per quasi qualunque interrogazione che erano codice versionato quindi difficilmente cioè c'erano delle query che avevano sottolibrerie erano versionate e che la vedo difficile che adesso GPT non fa una cappellata in una cosa del genere con i unit test però magari per cose semplici ci siamo già certo anche lì magari mi immagino delle stratificazioni ad esempio io degli espedienti che ho visto indagando in questo mondo del language model verso servizi esterni è che se non gli puoi far fare bene la query gli puoi far fare però la chiamata API e poi dietro la chiamata API ci metti le query di modo che così raccogli le query in famiglie e la gente comincia a farsi dei DSL dei domain specific language si si comincia a fare dei DSL che sono come se la query SQL la dovesse fare un bambino stiamo a dare il cambio automatico ai programmatori insomma prima avevano il cambio manuale delle macchine adesso hanno il cambio automatico questa spero che diventi famosa dai anzi adesso scrivo su LinkedIn stiamo dando il cambio automatico in mano ai programmatori è vero è così ha reso meno difficile guidare la macchina probabilmente si l'ha reso una professione ancora si perché ci sono ancora gente che guida taxi e va in giro ancora usa per cui forse spaventa un po' di meno messa così è un copilot dice interessante qui Eric le dice gli esseri umani finiranno solo a fare code reviews beh io vedevo l'intervista di Tim Ferriss a Kevin Kelly in cui Kevin Kelly secondo lui il suo modello è che l'AI al momento è come se fosse un intern gli fai fare un task l'intern talvolta lo fa bene talvolta ha bisogno di supervisione per cui tu mandi il tuo assistente il tuo intern a fare un task e poi lo guardi e fai ok bravo può andare così no aspetta hai fatto tutte le cazzate te le correggo mi fai la bozza e così via per questo tipo applicazioni dentro non lo so suggerimenti di risposte in gmail è fantastica come utilizzo perché quello del tipo ok assistente dammi al volo un'idea bravo adesso correggo due tre pezzi e poi la mando alla versione finale per cui in quel caso lì gli umani faranno code review ok dico sempre mi spaventa fra due generazioni perché a me adesso piace se non devo più scrivere codice ma mi limito a vedere le iai che scrive codice che io un po' mi ricordo come doveva essere scritto e glielo correggo e poi lo mando ma mia figlia che non l'avrà mai scritto in prima persona diventerà un po' come dentro l'idiocrasi il mondo funziona da solo nessuno sa per quale cazzo il futuro funziona grande film e se daremo brown ai campi perché c'ha gli elettroliti nessuno saprà più dire perché non è una cazzata capito quello un po' mi spaventa quel film ecco per esempio quello lì è partito come un film comico ma è una vera e propria profezia si si al di là dell'aspetto non dico politico diciamo sociologico però tra l'altro temo che temo che l'aii ci porterà lì non perché diventa super intelligente lei lei diviene ha iq100 noi diventeremo talmente stupidi che ci sembra wow l'aii è quella figa può essere che ci stupidisce non lo so io mi ricordo sicuramente anche tu sei del periodo in cui magari cominciavi ad andare in giro con la macchina e usavi lo stradario te lo ricordi lo stradario e ce l'avevo ce l'avevo in saccoccia come no come no ragazzi il tutto città il tutto città per voi che siete nati nei 2000 maledetti per chi di voi è così giovane e avete tutta la mia invidia quando noi altri si prendeva la patente e si cominciava ad andare in giro con la macchina non è che tu c'avi il percorso sul cellulare ma neanche per scherzo tu ti prendevi un libro c'avevi visto il giornale che si auto arrotolava da solo per qualche motivo diventava tutto appiccicoso e tu ti cercavi l'indirizzo a mano c'era alla fine tipo cercavi via via dal guarnera e andavi alla v e poi ok trovavi era a tavola 17 a 5 e aprivi la tavola fantastico però come arrivarci non so come facevi perché si perché comunque dovevi girare non sapevi mai dove stava il nord l'est poi mi ricordo c'avevi le strade che finivano su una pagina cominciavano due pagine dopo mamma mia che casino e quindi io penso sempre a questa cosa qua quando riguarda il discorso di cini stupidici cioè io effettivamente Roma l'ho imparata con lo stradario è chiaro oggi io anche per andare a due passi mill'a uso Google Maps per cui non imparerò mai le strade qui da me come quando non so io imparavo conoscevo un paio di centinaia di numeri di telefono a memoria adesso manco il mio io ho un cazzo di Google Doc con sito il mio numero di telefono perché non me lo ricordo ancora ed è il tuo ed è il mio siamo finiti a fare i boomer tu quanti anni hai? 40 hai detto? quasi quasi 40 mi sento vecchio comunque non lo nascondo che zona di Roma sei? io sono cresciuto a Tivoli che sta fuori sono di Burtina come no come no io sono Tiburtina sono Tiburtina dentro per cui ma dai sì 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 a Tivoli ci veniva i bagni alle acque albule sono cresciuto l'unico posto c'era un trampolino sono di lì vicino adesso sto a torre spaccata sulla casilina ok 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 grande ma tu hai intenzione di tornare in Italia oppure se lo faccio ho solo considerazioni economiche perché cioè qui la vita costa un fottio per cui mi dico comunque tornassi in Italia potrei veramente quasi far solo quello che voglio i soldi non sarebbero più un problema perché diciamo che il patrimonio che ho accumulato qua in Svizzera mi fa essere un sono superman sul pianeta Krypton invece in Italia sarei superman sul pianeta Terra e quindi l'unico motivo mi farebbe tornare è questioni economiche oppure eventualmente questioni familiari se cioè abbiamo io e mia moglie e quattro genitori comunque anziani se virano a mano prima o poi però però boh ci pensiamo spesso quasi sta meglio in tutto secondo me l'unica cosa è che è molto cara e tu all'estero non ci hai mai pensato? sono stato un annetto in Germania a studiare sono partito con le migliori intenzioni e mi sono ritrovato ogni giorno ubriaco a rincorrere tedesche ho capito che dovevo rimanere in Italia quindi questa è stata la mia storia mi sembrava una bella premessa dico ah finalmente cosa è andata aveva anche dei difetti quel posto lo sai io però stavo in un posto della Germania che magari non era una città era particolare però io stavo male perché c'era troppo ordine cioè io se vedo tutto che funziona alla perfezione è come se mi sentissi o non all'altezza della situazione come se fossi io sbagliato c'è qualche meccanismo psicologico deviato magari di scarsa autostima non lo so però in questi posti così mi sento come se non fossero per me invece ecco oggi ho preso la dovevo andare all'Eur che sta a 9 km di distanza ho deciso di andarci in metro che io sia maledetto ci ho messo due ore due ore a fare 9 km con la metro io ricordo che uno degli eventi mi ha fatto ho detto adesso mollo Roma è stata una volta che io andavo per lavoro cioè durante il mio dottorato diciamo avevamo un laboratorio la mia tutor aveva un laboratorio che è andato in un garage a zona Quartomiglio io vengo diciamo vengo da un autobus lontano dal capolino di Rebibia della metro B e per arrivare a Quartomiglio dovevo prendere quattro mezzi di via un altro ci ho messo due ore e mezza per arrivare e ho fatto no basta adesso è la fine Roma non ha senso due ore e mezza ci arrivavo a Salerno se volevo si praticamente si ma che dico Salerno ci arrivo quasi a Milano ci arrivavo e due ore e mezza ho fatto no basta non esiste più e quindi dove sto adesso in mezz'ora sto ovunque ti mette alla prova Roma è una città ma non solo Roma però ti mette alla prova in un modo cioè tanta bellezza ti regala tanto poi ti distrugge proprio a livello di spostamenti ti distrugge se vieni a Zurigo il giorno dopo scappi ogni tanto vedere la monnezza per strada ti manca a me no a me no onestamente c'è chi dice ti ha visto un sacco di volte al centro commerciale Casilino ah ma dai si è vero ci vado ogni tanto Roma è bella ma non ci ci sarà Piero Pietro al Paiolo giovedì prossimo faccio un mini raduno in un ludopub tu giochi a board games allora per un periodo sono appassionato di scacchi con i board diciamo diverse volte ho provato non ho provato come si chiama quello dove c'è il narratore con i dadi figure ti manco mi ricordo come si chiama però i miei amici stanno in fissa con i dadi dove c'è uno che ha proprio il ruolo di narrare la storia e gli altri fanno i vari ruoli non so se non è Dungeon and Dragons no ah ok vabbè si narratore con i dadi Dungeons and Dragons ok vabbè quello è il livello acquisto io ok quindi vabbè si c'è più un role playing game che un board game classico però per dirti che giovedì prossimo esattamente fra sette giorni io starò a Roma in realtà da dopo domani da domenica fra tre giorni vengo a Roma e giovedì c'è un mini raduno al pub al ludopub il Paiolo se c'è voglia di raggiungerci al momento pare c'è una quarantina di persone che si sono registrate quindi facciamo beh a Milano eravamo molti di più quindi Roma mi sta deludendo Roma mi sta deludendo quindi ragazzi romani venite a trovarci al Paiolo Ludo Pub Paiolo Ludo Pub me lo scrivo quindi torni torni un po' a Roma quindi tempo di goderti ti godi insomma la bellezza della città e poi te la scappi e poi scappo ma l'Italia quando sto fuori per le vacanze faccio quasi esclusivamente in Italia le vacanze con famiglia perché alla fine è figo cioè l'Italia è bella per venire in vacanza proprio per venire in vacanza se devi lavorarci avere un rapporto con la burocrazia no piuttosto ormai muoio sono troppo abitato bene Piero infatti Nord Europa è Nord Europa dopo che l'hai visto cioè prende l'intera Italia ti fa lo stesso effetto che se sei romano ti fa Napoli però l'intera Italia ti fa quell'effetto là diciamo che beh più che altro vedi l'Italia come una molto provinciale cioè ti sembra quando stai dentro ti sembra tutto quando stai fuori ti sembra proprio una provinciale anche se intanto apro i giornali italiani dico vabbè ma è una paradista stronzata di questa cazzatina di questa cosa irrilevante non lo so a volte c'è un po' un respiro più internazionale tante cose te le dimentichi va eh mi hai fatto molto piacere come ti come ti possono trovare tu sei presente su YouTube hai altri social su cui sei presente TikTok so che sei un famoso TikToker TikTok sì TikTok mi piace tanto quel mix unico di tossicità e nicchie ultra specialistiche che mi fanno morire stiamo scoprendo che a te ti piace un po' ruzzolare la merda nel senso che ti piace lo sporco ti piace un po' il casino se c'è troppo ordine oh Dio metaforicamente metaforicamente ti posso dire una cosa hai visto quando dicevi il mio video che dice di più è quello di un milione di views dove però hanno preso un pezzo di quello che ho detto l'hanno travisato ci hanno messo la musichetta trending io ho una fascinazione per il meme perché cioè io l'ho interpretato proprio come un fenomeno di teoria dell'informazione di memetica in termini proprio di selezionismo genetica memetica per cui su TikTok tu vedi delle cose non so se hai visto il core core su TikTok l'hashtag core 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 no ma io non lo uso TikTok non ci vado per niente mai se è creata questa sottocultura core core infatti qualcuno se è creata questa sottocultura su TikTok dove prendono spezzoni di vario tipo persone che parlano di qualcosa in un podcast scene di vita quotidiana interviste pezzi di telegiornale che hanno come light motive diciamo una una nota malinconica e di leggerissima denuncia della superficialità del mondo odierno ma questa cosa però è è di un sofisticato eppure viaggia sui milioni di di views cioè è stato un trend adesso sta pure un po' scemando però ha avuto un trend enorme io questa qui la trovo lo trovo un fenomeno che è di natura mondiale culturale ed è un meme su TikTok ok perciò sto intrippato perché è vero che è merda cioè è vero che TikTok è in larga parte è merda non ho non ho proprio da che ridire è un'affermazione assolutamente coerente con lo strumento TikTok che ti prende e ci costringe pure a noi creator a dire qualcosa di interessante in un minuto e devi essere bravo a a se tu guardi le statistiche cioè su TikTok se non te la giochi bene sui primi dieci secondi ma è già troppo i primi cinque cioè sei morto il decay rate di TikTok è una cosa che è nazista la gente scrolla velocemente swappa velocemente ok ma non penso che non lo so non penso che è un social che mi interessa più di tanto ma gli aspetti umani forse sì nel senso che vedo avevo già trovato tipo un altro hashtag che era cresciuto a caso e che non aveva però senso un hashtag no sense per cui boh quello che una volta erano i subreddit adesso sono tipo gli hashtag su TikTok vanno trending e poi dopo muoiono boh non lo so per esempio Twitch ti rispieghi Twitch Twitch è per far live per far live stream è essenzialmente uno strumento che trovo ancora molto poco dominato da algoritmi quindi se vogliamo tutta la discussione dell'AI di stasera che parte sembra due famiglie di AI diverse il mondo dell'AI come recommendation engine e AI come large language model anche se sotto sono le dinerali sono mondi separati al momento e se vogliamo Twitch è un luogo con cui tu fai delle buy in live e la gente se vuole ti segue c'è molta poca recommendation poca se sei grosso un po' finisci in alto però non ci sono vod non ci sono video ok rimangono i video dei vari creator per n giorni dopo detto questo quello che la piattaforma ti incentiva a fare è stare online il più possibile a te come creator quindi non ti può produrre miliardi di contenuti piccoli ma stare su ore e ore gli streamer che fanno gli streamer che lo fanno come lavoro stanno su fanno un lavoro fanno 40 ore a settimana anche di più però quello è un lavoro cioè diverso diciamo uno streamer un po' atipico perché ho in live due giorni a settimana molti fanno un calendario quasi tutti i giorni perché perché il revenue system diciamo che la pubblicità vale poco vale molto la subscription quindi quanta gente decide di darti il suo obolo e quello è molto proporzionale a quanto tempo stai online cioè devi stare quando arriva il ragazzino con l'amazon prime devi essere tu lì online un po' come che ne so se vai a Camden Town a Londra c'è il mercato asiatico tu provi a camminare al centro tutti quanti urlano prendi mangia questo mangia questo tutti ti urlano e quindi a un certo punto scegli di pigliarti un sushi di qua è un po' così è un po' tossico come da punto di vista content creation da punto di vista di utilizzo in realtà è carino hai un tuo tutti i tuoi canali televisivi se vogliamo vai e vedi non so cosa che tipo di domanda ti interessava cosa che tipo ti interessava è buono per fare live appunto io ammetto che io ho visto un botto ho visto ore di tuoi di video tuoi ma li ho visti condensati su youtube condensati cioè io sono uno che si guarda milioni di clip youtube estratte dalle tue live però la live intera non mi ci avvicinerei no è chiaro c'è chi le chiede c'è chi dice perché non ricarichi le live intera le ricarico tutte le metto unlisted su youtube in una playlist specifica spesso linkate dove vedi una clip spesso c'è link alla live intera quindi trovi anche tre ore di live però poi in realtà i video quelli che escono pubblicati su youtube sono montati editati un po' più compattati però ripeto il mio canale youtube è un canale di ricaricamento di live non è uno youtube non è da youtuber vero che vuole fare il video spensato scriptato mi piace sta via di mezzo al momento è quello che posso permettermi col tempo diciamo quanto pare pure questo discorso non so se ti detengo troppo ci salutiamo no no ci mancherebbe anzi il repurposing dei contenuti pure è un argomento affascinante perché sto vedendo ad esempio questi qui che fanno i podcast io ho fatto caso che sono dei maestri totali nel fare cose nel farsi la live in video la live in podcast e poi si fanno video long medium e short form per cui con lo stesso podcast riescono poi a farsi chiaramente muoiole di montaggio però si fanno le clip per tiktok si fanno il video per youtube si fanno la live appunto su twitch e loro con un progetto editoriale solo poi sparpagliano contenuti diciamo che hai altissima efficienza ammetto che si io pure ne approfitto nel senso che anzi sarebbe anche da 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 fare il repurposing ancora meglio anche l'aspetto solo audio al momento ho una live su twitch ci citerò fuori poi quel maiale non si butta niente ti dici fuori tagli metti il pezzo di qua un pezzo di là ho anche un canale delle clip faccio la live qua poi pubblico sul mio canale principale youtube magari alcuni pezzoni belli aggregati e montati magari riesce a fare un'ora di da noi uscire a fuori sarà quasi intera queste qui non le tagliamo quasi per niente poi usciamo dei piccoli pezzettini che andranno sul secondo canale delle clip beh io sto a un livello di organizzazione forse anche esagerato però la dimensione un po' lo giustifica anche se boh non lo so non è che deve partire per forza così io voglio arrivare a 100k subscriber su youtube poi dopo me ne vado quindi ragazzi arriviamo a 100k e poi dopo posso finalmente posso finalmente mollare 100k su youtube è come un milione su tiktok tranquillamente credo si su twitch non lo so come la proporzione però ecco i subs di youtube valgono un po' i subs su twitch non so in realtà passi una metrica i followers ci stanno i followers sono 22.000 i subscriber vanno e vengono perché dura un mese la subscription per cui se tu per un mese sparisci torni a 0 subscriber perché devono rinnovare ogni mese l'intento economico quindi spesso vedi tipo dei streamer arrivano a 10.000 subscriber poi vai tre mesi dopo stanno a 5.000 perché magari hanno fatto una spinta ad arrivare a 10.000 poi sono tornati indietro questo è un po' tossico su cui fa sì che devi sempre star su mentre su youtube se vogliamo i subscriber sono una sorta di crescono soltanto è difficile la gente se ne va qua è un po' più complicato solo prime sub normale default è un autore nuovo sì in realtà l'avevo vista anche questa cosa qua è vero vero non dai bene se hai qualche altra domanda per me rispondo volentieri se sei interessato a cose se no ok l'ultima domanda l'ultima domanda reverse interview sì sì allora secondo me al momento diciamo c'è una una parte dei social media in Italia in cui ci sono persone che per avere un passato particolare per il tipo di argomenti che affrontano sono un po' i divulgatori scientifico tecnici della nazione no quindi questa community di cui chiaramente sei uno dei più grossi come la vedi e se cioè se vuoi dare dei consigli a chi fa divulgazione scientifica dove sta andando la community questo secondo me da te può cioè aiuta cioè a me allora parli di community divulgatori di cosa parli diciamo di nomi grossi che posso tirar fuori anch'io tra che cavolo ne so Bressanini Entropy for Life parli di questo livello di divulgazione o di cosa parli anche più discorsivo perché cioè io comunque cioè a te ti considero un divulgatore magari ti senti diversi però nella mia testa fai parte della divulgazione perché io mi collego e imparo cose su il mondo della finanza il mondo delle cripto la gestione dei portafogli anche la gestione dell'economia familiare se vuoi a volte e quindi ti collego diciamo a delle risorse a cui io posso attingere per vedere persone interessanti e imparare cose nuove quindi questa qui magari è ingiusto chiamarla divulgazione scientifica per tanti però io la inquadro così ha tua ragione no ok interessante sì io spesso faccio un divide tra education e entertainment che sì a me mi trovo a fare entrambi però c'è una componente education chiamiamo la divulgazione ok e beh per me questo era lo scopo principale di internet per entertainment avevamo già la televisione avevamo già altre puttanate quindi in realtà ogni volta che vedo qualcuno che viene su internet a fare contenuti diciamo educational slash divulgativi a me fa piacere mi godo è quello che cerco guarderei solo quelli non so immaginate il blue one brown veritasium ah ok la andiamo a proporre divulgazione scientifica c'è questa gente che divulga equazioni proprio cioè tipo il blue one brown è l'apoteosi del mondo divulgativo se ci stringiamo al mondo italiano c'è gente che fa divulgazione interessante specialmente in ambito scientifico e la domanda era come mi qual è la domanda specifica a quest'ambito come vedi questo settore dove dovremmo andare dovremmo andare io c'è un incentivo sempre a a essere più generalisti o a essere più basso livello e e sta cosa qui un po' mi spiace per me dovremmo andare in direzione di trovare il modo di finanziare in qualche modo chi vuol fare divulgazione a livello un po' più elevato perché ti faccio l'esempio vuoi parlare di finanza se fai un argomento basic 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 che proprio che veramente pure mia nonna può ascoltare fai un bel ritorno tutti lo guardano se vuoi andare in dettaglio su una nicchia su un argomento molto settoriale specifico che ce ne trovi pochi perché di argomenti diciamo di contenuti basic ne trovi infiniti lì il reward è più basso perché non ti guarda quasi nessuno e quindi sono un peccato se tu vuoi fare un corso di python su youtube ne trovi un miliardo basic se vuoi vedere cose molto più dettagliate specifiche spinte come si scrive python in azienda zero quindi trovo che il mondo diciamo educational su youtube ad esempio è perfetto per passare da 0 a 5 su scala 100 e poi dopo però basta una volta che ci hai fatto qualche cosa qualche corso basic dopo devi in qualche modo cercare risorse che non ci stanno che sono scarse non ci stanno a me piacerebbe un po' un minimo mettermi in mezzo fare divulgazione a un livello un po' sopra però lotti contro gli incentivi che sono a fare le cose basic tutto qua è un po' dura è un po' dura questo qua questo qui ovviamente se tu sei finché sei piccolo ma tu già hai più di 10.000 scritti tu già non sei piccolo finché sei piccolo chi se ne frega non guardi queste mail non lo fai per nessun ritorno lo fai per ritorno personale per cui trovi anche qualcuno molto piccolo che ti fa il corso di meccanica orbitale ok però come un divulgatore in astrofisica arriva a un milione di iscritti ti fa soltanto il paradosso dei gemelli guardate faccio vedere che succede se un gemello fa l'animazione con il gemello che invecchia che è due palo ho visto un miliardo dei paradosso dei gemelli sti cazzi fammi un bel corso di meccanica orbitale e quindi questo è un po' brutto quindi vedo come cresci e questo diventa anche un lavoro perché comincia a vedere revenue a quel punto non ti puoi neanche permettere troppo di distruggere il revenue perché vuoi vuoi non inseguire ciò che tira è un peccato però qual è l'alternativa modello un po' più che ne so le fondazioni infatti Kurzgesagt che è fighissimo spesso è finanzato da fondazioni la Gates Foundation decide fate un bel video su argomento che di suo non tirerebbe eccovi i soldi questo potrebbe essere un modello fondazioni che finanziano contenuti divulgativi ad esempio i i Green Brothers Hank Green hanno fatto il canale Crash Course hanno fatto dei contenuti carini però finanziari da fondazione non lo so esistono i vari mock è vero ma boh ma sono sempre basic però sempre basic contenuti avanzati live di Primgen non conosco non conosco rip investing from 5 to 5 hai facuto from 0 to 0 ti viene mai la voglia di dire adesso a pitch reach parto da 0 e tiro tipo uno script open source che fa cose strane magari uno smart contract ho fatto live di 9 ore ho fatto live di 9 ore che ho messo su uno spreadsheet l'hanno visto 3 persone ho fatto 5 live consecutive su solidity io che imparavo solidity in public fino a fatto smart contract di lotterie di cose carine lo vedevano in 30 se faccio un video di scorreggio lo vedono un milione l'incentivo non c'è l'incentivo è purtroppo a far cose più banali però mi viene voglia sì sì sono stato d'accordo con te mi viene voglia è che se voglio se voglio andare in quella direzione va fatto pensato e strutturato non lo improvvisi così in una giornata è quella storia che poi ti ingabbiano vorrei dire adesso che faccio mi committo a un videogioco open source per i prossimi sei mesi però poi è un commitment perché non fai tu perché lo stregatto non fai qualcosa in public in live perché non ti metti a far contenuti mentre scrivi codice cioè una roba del tipo una volta stai scrivendo stai risolvendo qualche comment accendi la telecamera e te commenti fai cose c'è anche chi lo fa come co-working space guarda Study Time ad esempio è una streamer che lei fa le sue cose con la musichetta chill in sottofondo lo fai e la gente anche passivamente ti ascolta e c'è un business model dietro sono poco avvezzo alle live è una cosa che dovrei imparare invece una via di mezzo che ho trovato tra strutturare troppo e fare live sono le playlist che ho notato anche che crescono lentamente però crescono costantemente c'è la playlist che ho il mini corso su youtube io mi sento di consigliarla per cose verticali poi pure là vedi capito il primo video 15.000 views il secondo 7.000 il terzo 3.500 c'è proprio il decadimento c'è un drop si anche tu dici adesso parto con cosa figa lezione 1 lezione 2 lezione 3 c'è un drop mostruoso in genere è sempre così alla lezione 1 tutti quanti vengono a vedere poi alla 3 ci arrivano un terzo ma è come un corso d'analisi 1 qualsiasi in qualunque facoltà esatto poi io mi trovo sempre a pensare questo che magari io sto là preso lì dalle views però magari quei 4 che arrivano alla fine quelli lì sono la svolta quelle 4 persone perché ovviamente c'hai c'è appunto 4 persone uno con cui puoi parlare direttamente e 2 magari poi ci puoi costruire ci lavori a me un'altra cosa che riesce difficile per esempio è staccare la testa dal pubblico e metterla sulle persone perché alla fine conta la persona però quando i numeri crescono c'è appunto c'hai 20.000 follower su twitch se ovviamente è una piccola rock star capito nel mondo dell'informatica li faccio con Marcello Ascani questi discorsi che con lui ho fatto dei video lui ha 10 volte i miei scritti su youtube però lui mi dice non ha un grande rapporto non ha un rapporto diretto con la community perché non fa mai live io facendo solo live cioè i nomi che passano qua in chat che tu vedi ormai è gente a cui ci associo facce cioè io odio il concetto di parasociale cioè a me proprio piace molte persone che stanno leggendo in chat le ho incontrate sono amici per cui è bella questa cosa qua quando faccio live mi sembra di stare in un pub con 200 persone e faccio un po' il pagliaccio però poi dopo il video va su youtube lo vedo magari anche in 100.000 che fa strano fa molto strano però è un equilibrio che a me piace penso di essere abbastanza unico in questo sai che non è una cosa che fanno cioè il mondo si dice in italia almeno in molti streamer e youtuber gli youtuber sono business marchette senza che non ci fossero domani sponsor vari e proprio dopo non mettono facce in testa al loro pubblico quasi non esiste il pubblico come sta in televisione gli streamer invece sono molto più un rapporto umano però difficilmente fanno contenuti che poi vengono presi e hanno un valore di per sé devi stare nel flusso dello stream quello sta 8 ore in live fa scorreggio canta balla fa cose io sto in un ibrido che mi piace al momento francamente e penso che qualcuno comincia a copiarlo sto ibrido qualcuno comincia a apprezzarlo mi piace pareri su rust così debotto senza senso sono un pythonista e al limite un po' di java scritte linguaggi tipizzati non mi piacciono ragà ce la posso fare voglio solo scripting per me esiste solo lo scripting e qui chiudiamo il cerchio dicendo quando io entro nelle AI non mi sta dietro nessuno sta scritto non hai mai visto un compilatore Piero come on esatto esatto per me lo sai il linguaggio ma sei impallato grazie al cazzo ma ti hai spiegato una virgola e non hai compilato sì sì per quello poi piacciono i language model perché è l'evoluzione del python capito il python vado a capo non metto graffe quando devo scrivere hand scrivo a n d a me piace sintassi minima mi piace il linguaggio che mi aiuta a trasferire le mie idee nella macchina se mi devo occupare della memoria se devo descrivere i tipi sono sicuro che è utile anche perché poi i programmi sono molto più soliti quando scritti così però io non lo sopporto cioè a me se mi fai vedere il C io muoio alla prima reaction che tu hai fatto sul mio video quando io parlavo che lavorare nell'EI era noioso perché era da alchimisti non da chimici questo intendevo tu sei l'alchimista e io sono il chimico io voglio le formule e te voglio le zampe di coccodrillo orecchie di serpente tutto un casino scoppia però ho fatto molto piacere anche a me anche a me scusa se no 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 comunque ci vogliono tutti questi profili qua perché c'è il bello degli esseri umani alla fine secondo me è proprio esattamente quello ci sta quindi sì grazie di avermi di aver accolto la provocazione che era ma volentieri magari faremo anche altre cose insieme assolutamente e dicevo chi ti vuol seguire abbiamo tiktok abbiamo youtube twitter e il github dello stregatto che è diventata la mia vita e il github dello stregatto che rimettiamolo rimettiamolo qui per chi vuol contribuire per chi gli avanza tempo dopo aver lavorato su so soldi e clementi nei progetti dell'open source di mr rip chi vuole c'è il chish aircat di piero ait di pierois come si pronuncia quello l'avevo messo piero italia piero italia madonna che bumeraggine e via progetto open source con quasi 30 persone coinvolte su un custom AI on top of language model il gatto ti aiuta bene grazie mille ciao a tutti ragazzi è stato un piacere chi deve fare ride lo facesse che mi criticano spesso che non lascio il tempo per fare il ride che cos'è il ride? ma il ride su twitch è quando questa è una cosa che è brutta a me non piace però va i giovani lo fanno quando tu finisci la live mandi il tuo pubblico da un'altra parte lo sai? è brutto cioè stai dicendo ti sposto a vedere un altro streamer in realtà è un gioco di forza tra gli streamer per dire del tipo guarda ti ho portato 200 persone ah grazie figo una cosa brutta però il mio cda che ho il consiglio di amministrazione mi dice mi dice no va fatto perché va fatto per fare networking con gli altri streamer vabbè ciao a tutti ragazzi buonanotte ciao grazie mille ciao ciao